La città di Neverwinter è preda di una terribile pestilenza, la Wailing Death. Una pestilenza che nessuno riesce a curare, forse di origine magica. Per venire a capo della situazione c'è bisogno di un eroe. Un eroe proprio come quello che voi interpretate. Ciao a tutti e benvenuti nel canale video della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video vi voglio parlare di un gioco di ruolo per computer. Neverwinter Nights di Bioware. Questo è un gioco del 2002 e quando uscì scatenò un grande dibattito fra gli appassionati perché si poneva ambizioni altissime. Doveva essere non solamente un'avventura da giocare in solitaria o in multigiocatore, doveva essere un vero e proprio sistema, diciamo, che doveva permettere di creare avventure personalizzate, di giocare online con le stesse modalità con cui si giocava e si gioca attorno a un tavolo, quindi con un master e dei giocatori che interpretano i vari eroi. Insomma, doveva veramente cambiare il modo in cui si gioca di ruolo su computer. Ecco, parleremo meglio di quanto questa ambizione sia, come dire, riuscita nel video in cui vi parleremo della nostra... vi daremo il nostro parere sul gioco. Questo video invece è un esempio, un esempio di come funziona Neverwinter Nights. Vi faremo percorrere assieme a noi una parte del tutorial, vedremo come si creano i personaggi, vedremo come funziona l'interfaccia e vedremo anche un momento di gioco più avanzato in cui cercheremo di affrontare insieme un combattimento particolarmente ostico. Ma adesso bando alle ciance, bando agli indugi ed entriamo nel mondo di Neverwinter Nights. Signore e signori, benvenuti nel menu principale di Neverwinter Nights. Anzi, a voler essere precisi, benvenuti nel menu principale della Enhanced Edition di Neverwinter Nights. Che, devo dirvi la verità, è un po' underwhelming, come diciamo noi anglofoni. È un po', come dire, al di sotto delle aspettative. Nel senso che, forse la cosa più eclatante di questa Enhanced Edition è proprio la schermata che avete davanti, questa schermata principale, con questo bel artwork che occupa tutto lo schermo. Perché poi, per il resto, il gioco è rimasto molto simile all'originale. Certo, un recente aggiornamento... Guardate, vi faccio vedere la schermata delle opzioni. Un recente aggiornamento ha ampliato moltissimo le variabili in queste opzioni. Chi ha giocato all'originale, scusate, probabilmente... Nel frattempo mi sto soffocando. Chi ha giocato all'originale, stavo dicendo, probabilmente... Sì, insomma, vedrà molti elementi di novità, no? In questo menu delle opzioni. Però devo dire che... Boh, cioè, l'ampliamento delle opzioni grafiche non si riflette poi così da. Cioè, non è che poi, quando parte il gioco, nonostante apparentemente siano disponibili dei nuovi shader, delle nuove ombre, delle nuove animazioni, delle texture... Boh, insomma, apparentemente... Il gioco, appunto, una volta avviato sembra in tutto e per tutto quello originale. Vabbè, magari la Enhanced Edition avrà altri aggiornamenti in futuro e quindi vedremo altri miglioramenti in futuro. Ah, tra l'altro, voglio anche fare quest'altro piccolo appunto. Ho installato in questa versione di Neverwinter Nights un piccolo mod che cambia pochissimissimo l'interfaccia in maniera molto leggera. Aumenta un po' la dimensione di queste scritte e anche in-game aumenta un po' in generale. e dà anche uno sfondo opaco ad alcune parti dell'interfaccia che nel gioco originale invece sono completamente trasparenti. Però, insomma, niente di che. Va bene, gran parte di quello che vedrete in questo video dimostrativo è quello che poi otterrete semplicemente acquistando questa Enhanced Edition di Neverwinter Nights. Allora, ho intenzione di fare due cose in questo video dimostrativo. Allora, la prima cosa che voglio fare è mostrarvi il processo di creazione del personaggio e magari un pezzetto del tutorial. Non sono sicuro che andrò che andrò, diciamo, attraverso tutto il tutorial del gioco base perché è molto lungo e anche un po' un po' noioso, mi verrebbe da dire. Lungo e disperto. Ecco, già nel tutorial si capisce qual è la criticità principale della campagna inclusa nel gioco base almeno secondo la mia opinione ma non solo la mia e cioè il fatto che si tratta di un'avventura estremamente dispersiva con anche elementi interessanti dal punto di vista tematico svolti in termini discutibili dal punto di vista diciamo proprio narratologico ne parliamo meglio nel nostro video in cui vi diamo la nostra opinione però ecco, qualche tema interessante c'è all'interno della sua però è diluita troppo cioè poteva essere svolta in metà tempo e sarebbe stato molto meglio ma chissà perché forse non so, a volte ecco, è interessante riflettere su questo a volte le statistiche relative alla longevità dei giochi sono come dire interpretate sempre in senso positivo mentre non dovrebbero esserlo perché a volte la longevità è in realtà un difetto cioè l'eccessiva longevità è un difetto se si traduce in un'avventura troppo diluita troppo dispersiva o anche in un'avventura che non è magari diluita o dispersiva ma che come dire trascina troppo a lungo una giocabilità estremamente serrata e concentrata e anche quello è un problema mi viene in mente Divinity Original Sin il secondo capitolo ma anche il primo entrambi quei giochi sono troppo lunghi troppo lunghi sarebbero stati molto migliori se fossero durati oserei dire la metà rispetto a quello rispetto a quello che durano ma vabbè non apriamo troppe parentesi quindi stavo dicendo vi farò vedere una creazione del personaggio va bene Neverwinter Nights segue le regole della terza edizione di Dungeons & Dragons quindi è molto diverso dai giochi precedenti di Bioware ambientati utilizzanti Dungeons & Dragons perché la serie Baldur's Gate Neverwinter Nights scusate Icewind Dale che non è in realtà di Bioware ma insomma in cui Bioware ha messo lo zampino ok ecco quei giochi si basavano su Advanced Dungeons & Dragons la seconda edizione fra la seconda e la terza edizione le differenze sono veramente radicali va bene quindi è interessante è interessante parlarne ultimo promesso appunto iniziale è il fatto che questa è una sarà una review un esempio di gioco molto parziale non solo perché vi farò vedere poco dei contenuti del gioco ma anche perché questo gioco è nato soprattutto come un sistema da utilizzare in multiplayer in multigiocatore l'idea degli sviluppatori era creare un ambiente attraverso cui i giocatori potessero incontrarsi virtualmente online e realizzare vere e proprie sessioni di gioco di ruolo proprio come si fa nel gioco di ruolo cartaceo quindi doveva esserci un master che controllava i personaggi non giocanti i personaggi invece giocanti diciamo controllati ciascuno da un altro partecipante ecco parliamo meglio di tutto questo nel video con il nostro parere però io vi voglio dire fin da subito che non ho mai usato Neverminter Nights in multigiocatore va bene quindi questo è importante da dire all'inizio così potete capire che valore può avere la mia opinione di questo gioco va bene dopo che ho detto questa cosa siete padronissimi di considerare la mia opinione del tutto worthless perché forse il punto di forza di questo gioco era proprio il suo comparto è proprio il suo comparto multigiocatore quindi torniamo a quello che ho aperto 10.000 parentesi ok torniamo a quello che stavo dicendo all'inizio vi farò vedere una parte la creazione del personaggio una parte del tutorial e poi passerò a un salvataggio non avanzatissimo comunque un salvataggio del primo atto se non ricordo male ho un druido messo da parte anzi una druida una druidessa va bene e vi farò vedere vi farò vedere anche un pezzetto di quel salvataggio per farvi vedere un momento di gioco leggermente più avanzato va bene ma bando alle ciance e clicchiamo senza portempo in mezzo su new ecco vedete qui possiamo scegliere che campagna giocare quindi abbiamo la campagna base del gioco Neverwinter Nights Campaign abbiamo le due espansioni abbiamo le due espansioni ufficiali Shadows of Under and Tide e Hordes of the Underdark che sono appunto due avventure aggiunte dalle espansioni molti le considerano migliori dell'avventura del gioco base secondo me Shadows of Under and Tide è perfino peggiore della campagna del gioco base questa è la mia opinione personale mentre Hordes of the Underdark forse è un po' meglio un po' meglio un po' più soddisfacente vedete c'è anche la voce Premium Modules va bene adesso non mi ricordo cos'ho installato io ecco allora alcuni si trovano già nella versione base diciamo della Enhanced Edition per esempio credo che Kingmaker Shadowguard Witchwake questa qui fu a suo tempo un'espansione del gioco base Neverwinter Nights che venne venduta anche nei negozi se non ricordo male dal titolo Kingmaker e che includeva queste tre piccole avventure va bene invece le altre che vedete qui quindi Tyrants of the Moonsea Wyvern Crown of Cormier Pirates of the Sword Coast e Darkness over Daggerford sono avventure acquistabili separatamente per la Enhanced Edition per pochi euro va bene io ho giocato Pirates of the Sword Coast a suo tempo è bene pubblicato come modulo premium anche per il primo Neverwinter Nights giocai Darkness over Daggerford che doveva essere un modulo premium inizialmente ma poi il programma dei moduli premium per ragioni legali venne interrotto quindi divenne un download gratuito quindi lo giocai a suo tempo mentre non ho mai giocato Tyrants of the Moonsea e Wyvern Crown of Cormier quindi di quelli non troverete alcuna recensione nel sito la maschera riposta invece di tutto il resto più o meno troverete delle recensioni se cercate nel sito va bene ma noi non vogliamo uno dei premium modules noi vogliamo la campagna poi c'è anche other modules che non so cosa sia sta roba ah ma dai ci sono anche delle nuove campagne di Bioware non so cosa sia sta roba in genere qui è dove finisce dove finiscono i moduli che vengono scaricati fatti da altri giocatori perché Neverwinter Nights doveva essere anche questo un editor che doveva permettere di appunto creare nuovi moduli nuove avventure e permettere a tutti i giocatori poi di scaricarli e di giocarli va bene non so cosa siano queste qui che sono già in clu non ho mai scaricato niente io per la Enhanced Edition quindi questa roba è tutta inclusa nella Enhanced Edition e sinceramente non so di cosa si tratti quindi non dirò nulla a riguardo dicevo che noi sceglieremo la campagna del gioco base per questo esempio di gioco va bene quindi clicchiamo e ecco qui possiamo scegliere se cominciare dal Prelude che sarebbe un po' il tutorial o se andare direttamente al capitolo 1 va bene noi sceglieremo il Prelude va bene quindi Prelude qui possiamo scegliere se creare un nuovo personaggio o se scegliere un personaggio invece già predefinito noi ovviamente creeremo un nuovo personaggio va bene e quindi eccoci qua parte la schermata di creazione del personaggio va bene ecco già vi faccio notare il fatto che la Enhanced Edition non è minimamente intervenuta nel cercare di regolare queste vecchie interfacce alle nuove risoluzioni o meglio ci prova c'è un'opzione nelle opzioni che permette appunto di stracciare diciamo però i risultati sono talmente orrendi che veramente non vale neanche la pena di provarli va bene fidatevi tenete questa vecchia diciamo questa vecchia risoluzione che insomma corrisponde alla schermata minima credo alla risoluzione minima che poteva avere il gioco nel momento della sua pubblicazione va bene dobbiamo scegliere il gender cominciamo beh noi scegliamo come sapete sempre female ci piace di più quindi faremo una bella female ecco visto che dopo appunto ho da parte il salvataggio di una druidessa io direi che qui potremmo fare un guerriero che ne dite facciamo il il più classico dei guerrieri la classe di solito con cui si incomincia a sperimentare questi giochi almeno normalmente io faccio così tendenzialmente inizio a sperimentare con un guerriero per poi magari più avanti passare ad altre ad altre classi allora che razza scegliamo per fare il nostro bel guerriero va bene allora abbiamo gli umani vedete qui ci sono tante belle spiegazioni se ve le leggo tutte rimaniamo qui per sei ore non lo farò va bene quindi ci sono delle belle spiegazioni quello che ci interessa di più è la modifica che vengono fatte che viene fatta alle statistiche per ogni razza per esempio gli umani non hanno vedete nessuna modifica alle caratteristiche hanno però questo fit questa caratteristica che si chiama skilled guadagnano 4 skill points in più extra al primo livello punti abilità e un additional skill point at each following level cioè ogni volta che fanno che livellano successivamente che raggiungono un livello successivo hanno un punto abilità in più va bene i punti abilità sono molto importanti in questo in questo regolamento praticamente quasi non esistevano nelle edizioni precedenti di Neverwinter Nights a partire dalla terza edizione hanno invece una grande importanza perché molti degli ambiti di azione del nostro personaggio rientrano fra le abilità va bene molte altre invece rientrano tra i cosiddetti fit va bene e vedete un vantaggio degli umani è anche che hanno un extra fit un fit extra al primo livello ecco anche questo è un elemento che vale la pena che vale la pena sottolineare vedete la classe favorita allora in questo gioco scusate a partire dalla terza edizione del regolamento di Dungeons & Dragons il il meccanismo per multiclassare il personaggio è molto diverso rispetto a quello che c'era che abbiamo visto in Advanced Dungeons & Dragons nei giochi precedenti per esempio Baldur's Gate in quei giochi c'era la possibilità di creare un personaggio multiclasse fin dall'inizio quindi si sceglievano due o anche tre classi diverse fin dall'inizio e i punti esperienza ottenuti venivano divisi equamente fra quelle classi quindi si creava una specie di ibrido che avanzava contemporaneamente in tutte le sue classi oppure si poteva biclassare va bene quindi a un certo punto potevano farlo solo gli umani con determinate caratteristiche potevano scegliere di abbandonare in pratica la loro classe di partenza sceglierne un'altra a quel punto la loro classe di partenza veniva disattivata loro ripartivano dal primo livello con un'altra classe e quando la seconda classe avrebbe raggiunto un livello più alto rispetto alla prima la prima sarebbe tornata attiva va bene però non avrebbe mai più potuto avanzare d'accordo così funzionava in Advanced Dungeons & Dragons qui funziona in maniera molto diversa funziona che ogni volta che si fa un level up è possibile scegliere una classe differente va bene quindi è possibile mischiare diciamo anche tutte le classi fra di loro però ovviamente più classi si mischiano e più il personaggio diventa non solo difficile da gestire ma proprio acquista anche delle penalità va bene però queste penalità vengono ridotte se una delle classi scelte è preferita da quella razza va bene ecco perché è importante questo favored class va bene e vedete gli umani sono particolarmente flessibili quindi la loro classe preferita è una classe qualunque va bene quindi in pratica una delle classi scelte viene ignorata quando si deve stabilire questa penalità per personaggi multiclasse va bene guardiamo anche le altre razze le caratteristiche delle altre razze i dwarf vedete hanno più 2 alla costituzione meno 2 al carisma i nani va bene la loro classe preferita è fighter e vedete hanno tutta una serie di special abilities sono resistenti vedete ai veleni agli incantesimi hanno dei nemici vedete di elezione diciamo gli orchi goblinoidi giganti va bene e sono anche hanno anche una skill affinity per la lore va bene la lore è la quell'abilità che permette di identificare gli oggetti magici andiamo avanti vediamo gli elfi gli elfi hanno più 2 alla destrezza e meno 2 alla costituzione va bene la loro classe preferita è il mago naturalmente hanno tutta una serie anche questi vedete di special abilities anche qua vado un po' veloce perché se mi metto a leggere tutto nel dettaglio veramente non finiamo più comunque sono immuni vedete allo slip al sonno hanno delle ecco alcune razze e questo è interessante iniziano automaticamente anche questa è una bella novità rispetto alle versioni precedenti del regolamento iniziano automaticamente con alcune proficiencies cioè sono già abili di natura con determinate armi per esempio gli elfi con la spada lunga con rapier con l'arco sia corto sia lungo va bene e hanno anche vedete i keen senses questo è molto utile in pratica sono hanno sempre la ricerca attiva in ogni momento va bene in genere nel gioco per cercare trappole per esempio bisogna selezionare l'apposita funzione search e nel momento in cui sta cercando il trappole o altre o porte segrete cosa del genere il personaggio si muove più lentamente va bene l'elfo invece ce l'ha sempre attiva questa cosa quindi è molto utile andiamo a vedere l'ognomo l'ognomo ha più 2 alla costituzione e meno 2 alla forza anche per l'ognomo la classe preferita è il mago e vedete anche questo ha tutta una serie di abilità speciali per esempio ha vedete un bonus alla classe armatura perché è piccolo questo è interessante e anche vedete 4 di bonus al nascondersi sempre perché è piccolo no? è molto è molto interessante però vedete gnomes essendo piccoli non possono usare tutta una serie di armi di grandi dimensioni le spade bastarde vedete 2 bladed sword le spade tutte le diciamo le armi di grandissime dimensioni diciamo non possono essere utilizzate dagli gnomi va bene gli halfling presumo avranno delle caratteristiche simili vedete hanno più destrezza e meno forza la loro classe preferita è il ladro e vedete hanno delle caratteristiche molto simili vedete a quelle degli gnomi va bene poi abbiamo gli half elf che anche loro sono flessibili dal punto di vista della classe vedete e non hanno modifiche alle caratteristiche però vedete hanno dei punti bonus a certe abilità va bene abbiamo gli half fork gli half fork hanno più 2 alla forza meno 2 all'intelligenza meno 2 al carisma e la loro classe preferita è il barbarian va bene ecco potrebbe essere interessante anche fare un barbarian in questo esempio di gioco perché no ma sapete che forse è una classe che non ho mai giocato credo quindi potrebbe essere interessante che ne dite ma si facciamo un half fork una barbaressa va bene una barbarian dai ci piace ci piace notate che ci sono anche le sub race va bene allora vedete in realtà semplicemente è un modo per vedete non è che ci siano in realtà delle altre razze da scegliere è un modo semplicemente per poter personalizzare ancora di più la 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 propria creazione del personaggio no con delle nuance diciamo che hanno un senso puramente da role player no hanno una funzione puramente interpretativa va bene interpreto cioè creo un half fork un mezzorco però mi immagino che questo personaggio appartenga a una sottorazza precisa e scrivo questa sottorazza così che il gioco possa usare questo termine che io inserisco magari anche nei dialoghi e nei documenti notare che in ogni punto della creazione del personaggio c'è il tasto recommended va bene che permette di creare un personaggio raccomandato va bene noi non useremo quel tasto allora scegliamo l'half fork ci piace allora vediamo un bel portrait ok beh dobbiamo scegliere ovviamente una faccia da half fork per esempio guardate questa qui mamma mia questa mi fa paura però un po' troppo una roba una via di mezzo questa qui ma questa qui è veramente di una bruttezza rara ecco questa è già meglio guardate che ne pensate sembra più abbigliata da mago non sembra tanto abbigliata da guerriero va bene ecco sapete che credo ci sia un DLC acquistabile separatamente che aggiunge ritratti quindi forse io ho quel DLC sapete che non sono sicuro sì penso di sì secondo me ho quel DLC e forse i ritratti che aggiunge sono quelli qua in fondo però in realtà non quelli all'inizio e non vedo nessuno qua in fondo che somigli a una a una mezzorchessa che ne dite no nessuna vedete potete anche scegliere anziché un ritratto più un vedete un simbolo no che compare un simbolo magari della propria classe per esempio questa bella ascia potrebbe essere un buon simbolo no per la nostra per la nostra orchestra questa barbara vediamo se c'è ci sono anche qui tanti ritratti che poi vengono utilizzati nel gioco per personaggi non giocanti quindi alcuni sono molto familiar diciamo boh forse fra questi qui che ho visto sapete che io sceglierei questa qui che non sembra tanto una barbara però sembra una mezzorca e e non è così perché questo è un uomo o è una donna è un uomo questo qua però me l'hanno messo fra le donne perché questi mi pare siano tutti ritratti femminili ma no sembra troppo un uomo mi piace più questo va bene quindi metterò metterò questo qui va bene allora che classe beh ovviamente barbarian senza neanche dirlo adesso però facciamo un piccolo overview delle una piccola overview delle varie classi comunque vi dico semplicemente non vi leggo le descrizioni anche qua vi dico semplicemente le caratteristiche no della classe che abbiamo scelto vedete lit die indica il dado che determina i punti ferita che otterremo sia all'inizio all'inizio si ottiene il dado intero diciamo quindi inizieremo con 12 punti ferita più eventuali modificatori determinati dalle nostre caratteristiche va bene e poi ogni volta che si sale di livello quel dado verrà tirato quindi otterremo fra 1 e 12 anche se in realtà nelle opzioni io ho selezionato che a ogni level up otterrò il numero massimo di punti va bene perché tanto se non seleziono quella casella poi so già che ogni volta che aumento di livello mi metto a ricaricare finché non ottengo il massimo quindi tanto vale selezionare quella casella ognuno ha le sue manie ognuno ha le sue paturni e portate pazienza va bene poi vedete c'è una una lista delle proficiencies delle abilità con le armi che abbiamo di default ne possiamo poi acquisire altre nel corso del gioco ma di default vedete abbiamo all simple and martial weapons light armor medium armor shields gli skill points vedete sono modificati dall'intelligenza e ne otteniamo quattro a ogni passaggio di livello ecco non possiamo essere lawful sennò diventiamo ex barbarians va bene vediamo le altre classi allora c'è il bardo va bene il bardo ha la caratteristica di poter lanciare credo la canzone spettate che non lo so di preciso penso però che abbia la possibilità di lanciare la canzone del bardo può lanciare gli spells vedete arcane quindi gli spell dei maghi diciamo però carisma based cioè sulla base del proprio carisma non sulla base dell'intelligenza come invece fanno i maghi va bene credo e poi credo che comunque abbia anche la bard song non lo so sapete che credo di non aver mai giocato a un bardo quindi sicuramente ha la bard song in advanced dungeons and dragons non so se ce l'abbia qua quindi non voglio dire inesattezze beh i chierici naturalmente sono i guaritori per antonomasia sono 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 i loro i loro spells sono divine va bene quindi a differenza degli arcane non devono essere imparati ma sono già tutti conosciuti va bene e sono basati sulla wisdom poi abbiamo il druid che è come il cleric però con un come dire un po' più offensivo diciamo e con tutta questa colorazione con incantesimi particolarmente legati alla natura abbiamo il fighter il guerriero per antonomasia va bene abbiamo il monk il monk i monk sono già stati introdotti nelle versioni non c'erano nel primo Baldur's Gate ma a partire dal Baldur's Gate 2 ci sono combattono principalmente a mani nude senza armatura è una classe particolarmente difficile di solito da gestire per i neofiti perché all'inizio sono molto deboli non avendo armi e armature però poi man mano che crescono insomma ottengono dei bonus naturali diciamo sia al danno sia all'armatura il paladino vabbè il guerriero difensore del bene che ha anche qualche incantesimo di guarigione va bene poi abbiamo il ranger il ranger è specializzato nel tiro con l'arco di solito ha anche degli incantesimi che ottiene però credo a livelli solo alti e poi ha anche credo l'animal companion come il druido sapete che non ne sono ancora una volta non voglio dire idiozie poi avete il rog va bene il ladro specializzato soprattutto nella sapete nella 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 rimozione di trappole nel scassinamento di serrature poi avete il sorcerer ecco il wizard è il mago che già c'era nei nei giochi diciamo nelle edizioni precedenti e che deve imparare gli incantesimi il mago diciamo classico potremmo metterlo così poi c'è il sorcerer che è un mago un po' diverso perché i suoi incantesimi sono basati sul carisma va bene e non sull'intelligenza almeno credo che il wizard sia basato sull'intelligenza vediamo si intelligence based spell preparation is required spell failure from armor is a factor invece il sorcerer non deve preparare gli incantesimi no spell preparation spell failure from armor is a factor vabbè sono entrambi danneggiati dall'indossare armature va bene però il sorcerer gli incantesimi ce li ha a meno scelta a disposizione va bene gli incantesimi sono basati sul carisma però ce li è sempre pronti quindi diciamo vantai è un tipo di mago diverso meno flessibile rispetto al mago classico però anche più ready to use più diciamo forse anche semplice per certi versi da utilizzare non dovendo preparare gli incantesimi allora tutte queste altre classi che vedete qui un po' vedete non selezionabili hanno questo colore un po' più chiaro queste sono le classi di prestigio va bene e sono state introdotte a partire dalla prima espansione del gioco shadows of undreamtide le classi di prestigio spesso danno dei vantaggi decisivi ecco una parte importante per chi gioca seriamente a un gioco come questo una parte importante della creazione del personaggio è programmare la classe di prestigio a cui si aderirà va bene andando avanti col gioco perché bisogna avere determinate caratteristiche e determinate abilità quindi non si crea solo il proprio personaggio sulla base della classe scelta all'inizio ma anche sulla base della classe di prestigio che si sceglierà da un certo punto in avanti va bene in realtà lo stesso ragionamento vale per qualunque multiclassamento non so se esiste in italiano questa parola per qualunque scelta che riguardi il multiclasse nel senso che se decido fin dall'inizio che il mio personaggio sarà un multiclasse anche multiclasse con la seconda classe scelta fra quelle base dovrò per forza fare un minimo di programmazione impara conoscere bene il regolamento da questo punto di vista è importante io di solito ho giocato semplicemente con una classe però ho utilizzato anche alcune di queste classi di prestigio va bene per esempio ho concluso la Hordes of the Underdark a suo tempo con un guerriero che poi è diventato un weapon master e devo dire che dava molte soddisfazioni l'essere un weapon un weapon master ok ecco naturalmente le classi di prestigio hanno ciascuna una classe delle classi diciamo un po' predilette no ha senso fare determinate combo ha meno senso farne altre ovviamente ecco non ci soffermeremo più di tanto su questa cosa noi faremo un barbaro e rimaneremo un barbaro fino alla fine di questa dimostrazione quindi barbarian andiamo avanti ecco il nostro alignment vedete non possiamo essere low full l'allineamento è uguale va bene a quello che si è visto nei giochi fin da Baldur's Gate no quindi abbiamo le due assi diciamo la bontà e la malvagità quindi l'asse morale diciamo e poi l'asse più invece collegato al ordine o caos che boh è sempre morale anche quello ma in senso un po' diverso no cosa scegliamo noi ma noi facciamo o un neutral good o un chaotic good cosa dite ma si facciamo un rebel o facciamo un benefactor no barbaro benefactor proprio non me lo vedo se no potremmo anche fare un free spirit un chaotic neutral ma si facciamolo il free spirit qui ci sono delle descrizioni vedete del del dell'allineamento ma insomma anche qua non ve le leggerò tutte se no ci mettiamo troppo tempo va bene adesso dobbiamo scegliere le nostre caratteristiche va bene e vedete qui la descrizione dice strongly recommend suggest that you use make use of the recommended button perché questo è un punto importantissimo ma poi tutte le abilità sono determinate da queste caratteristiche va bene quindi è un momento fondamentale nella creazione del personaggio e vedete qui i programmatori hanno scelto secondo me intelligentemente di lasciar perdere il meccanismo del tiro di dado no che si è visto nei giochi precedenti di Bioware quindi in Baldur's Gate ma anche in tutti i suoi epitomi in cui si stava lì ore e ore no a rirollare e vi dicono andate a vedervi il nostro esempio di gioco di Baldur's Gate per capire meglio di cosa sto parlando qui invece abbiamo vedete una certa quantità di punti a disposizione no guardate tra l'altro ecco anche qui si vede il pressapochismo di questa Enhanced Edition no guardate le scritte che si sovrappongono ma vabbè insomma lasciamo perdere ecco adesso vedete qui c'è anche la descrizione di tutte le abilità c'è anche vedete il costo per aumentarle perché più diventano alte e più dovremo spenderne di questi 30 punti quindi non è che sono 30 punti come dire puri no che possiamo distribuire così fra le abilità diventeremo ovviamente potentissimi per alzare un'abilità oltre un certo livello serve più di un punto come vedremo quindi avete la forza avete la destrezza la costituzione la saggezza l'intelligenza e il carisma le solite 6 abilità insomma e le 6 caratteristiche che insomma fin dalla notte dei tempi no vengono utilizzate per per definire i personaggi in Dungeons & Dragons va bene ecco cosa ecco vedete tutte queste le caratteristiche il loro punto di partenza dipende ovviamente dalla classe che abbiamo scelto no scusate dalla razza che abbiamo scelto e anche dalla classe va bene quindi vedete i nostri valori di partenza sono questi ma dobbiamo distribuire questi 30 punti va bene allora noi vogliamo sicuramente tanta forza e tanta costituzione se vogliamo essere un barbaro serio va bene vediamo cosa direbbe proviamo a cliccare recommended vediamo cosa succede recommended ci farebbe così vedete con 18 alla forza quindi c'era stranamente recommended ha messo più punti alla forza che non scusate alla destrezza che non ha la costituzione mentre io avrei fatto il contrario forse perché il barbaro generalmente non mette su le armature più pesanti in assoluto forse mette quelle diciamo medie quindi avere comunque una destrezza alta la destrezza determina la classe armatura ma diciamo se si porta un'armatura pesante è inutile avere destrezza altissima perché l'armatura pesante limita il bonus dovuto alla destrezza quindi la destrezza alta serve soprattutto a chi mette armature leggere o nessuna armatura va bene nella costituzione determina i punti ferita ok sapete che mi secca tantissimo l'intelligenza un'intelligence lower than nine means that your character is unable to speak properly non so se il gioco implementi davvero questa cosa secondo me non la implementa va bene cioè non c'è come in fallout o anche in arcanum che se si crea un personaggio di con intelligenza bassa i dialoghi sono tutti tipo no si padrone io fare questo fare quello cioè sono diciamo realizzati in termini primitivi ecco a livello proprio anche lessicale non credo sia così in questo in questo gioco però mi secca comunque avere un'intelligenza così bassa perché il punteggio di intelligenza determina la quantità di punti abilità che si hanno da distribuire a ogni livello quindi mi secca avere un'intelligenza un'intelligenza bassa piuttosto abbassò la wisdom perché dovremmo avere una wisdom più alta dell'intelligenza forse c'è un motivo va bene probabilmente i barbarians hanno qualche abilità che è influenzata dalla wisdom va bene anche avere il carisma così basso mi secca no 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 facciamo così togliamo un punto alla destrezza va bene tanto guardate andando su da 14 a 15 il bonus rimane lo stesso vedete invece se scegendo da 13 il bonus va a più 1 vedete questi sono i modificatori che vedete qua di fianco alle caratteristiche ok quindi facciamo così e intanto portiamo l'intelligenza a 10 va bene così da non avere nessun nessun malus forse lasciamo così cosa dite mi secca avere sto meno 1 in carisma va bene anche se vabbè è un barbaro non ci interessa particolarmente no forse no perché è sempre bello però creare personaggi che col dialogo riescono ad avere la meglio delle situazioni vabbè lasciamo così dai che ne dite forza a 18 destrezza a 14 costituzione a 14 saggezza a 10 intelligenza a 10 carisma a 8 ma sì ma sì lasciamo così andiamo avanti ok allora packages packages praticamente riguardano ecco questo è un modo tramite cui il gioco ci autodistribuisce i punti abilità e i punti relativi ai fits va bene le skills e i fits noi però vogliamo configure il package cioè vogliamo scegliere personalmente queste queste abilità va bene perché ve le voglio fare un po' vedere no ecco queste sono le skills available a un barbarian va bene allora animal empathy proprio non ce l'ha a disposizione vedete quindi proprio non possiamo sceglierla sarà una roba da druidi no da ranger appraise serve quando si acquista è un po' il barter l'abilità di 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 contrattazione il bluff presumo venga utilizzato nei dialoghi va bene la concentration è molto utile quasi fondamentale per i maghi no perché permette di non essere interrotti mentre si lanciano incantesimi dagli attacchi nemici quindi fondamentale avere alta concentrazione per i maghi un barbaro francamente può farne a meno ecco vedete alcune skills sono class skills cosa vuol dire che vuol dire che aumentarle costa meno va bene cioè io posso vedete prendere livelli di concentrazione però mi costa due punti prendere un livello guardate vedete ho 16 punti a disposizione vedete se io prendo uno di concentrazione adesso sono a 14 va bene perché non è un'abilità collegata alla mia classe invece craft armor lo è quindi se io l'aumento vedete mi porta via solo un punto e non due ok però dovete sapere che il craft queste robe le abilità di craft lo dico a chi dovesse iniziare il gioco e volesse fare la campagna principale sono del tutto inutili nella campagna principale perché non c'è una vera non è implementata davvero la creazione di armi armature personalizzate va bene cioè si possono creare oggetti a partire da altri però attraverso interagendo con degli artigiani presenti nel gioco va bene quindi lasciate nella campagna principale lasciate perdere queste abilità usatele solo se state usando le espansioni soprattutto anzi usatele solo se state per cominciare hordes of the underdark perché è là che queste abilità trovano un utilizzo va bene poi c'è vedete disable trap che è tipica dei ladri anche questa non è una caratteristica discipline è una caratteristica invece di classe ecco discipline è un po' come la concentrazione ma riguarda invece le abilità da guerriero cioè discipline mi permette di resistere no in realtà forse ho fatto un paragone un po' scemo non è la stessa cosa discipline mi permette di resistere a quelle abilità che mi vengono rivolte contro dai guerrieri tipo disarmed knockdown va bene potrebbe essere una bella idea heal permette di utilizzare i healing kits va bene healing kits non sono le pozioni nel gioco ci sono sia le pozioni di guarigione e quelle funzionano sempre diciamo poi ci sono questi healing kits che possono funzionare bene o male a seconda della nostra abilità nel heal va bene quindi questo può essere interessante hide non è una class skill intimidate è una class skill beh certo questa potrebbe essere usata nei dialoghi potrebbe essere interessante è basata sul carisma però quindi vedete noi partiamo già con un meno uno vedete qui ci sono i modificatori dovuti alle nostre abilità alle nostre caratteristiche scusate listen è una class skill è basata sulla 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 wisdom sulla saggezza ascoltare lore è una class skill è basata sull'intelligenza move silently non è muoversi silenziosamente va bene ecco quando il nostro personaggio c'è una sorta di modalità nel gioco che è praticamente la sneak il muoversi silenziosamente che unisce diciamo l'hide e il move silently va bene in un'unica in un'unica ecco vedete è anche spiegato qua hide and move silently are combined into a single stealth action va bene quindi diciamo che un ladro che voglia fare molto stealth deve aumentare sia il move silently sia il hide va bene open locks naturalmente per aprire serrature ecco parry è una modalità particolare di combattimento va bene fondamentalmente qui è un po' spiegata a successful parry check means that the attack does not damage the parrying character praticamente ci si mette in una posizione difensiva che permette dei counter attack ok è basato sulla destrezza io non l'ho mai usata tanto devo dire però ecco per form non possiamo neanche selezionarla sarà una roba da bardi presumo persuade non è una classe skill ma insomma vabbè è basata sul carisma va bene pickpocket borseggiare ride ecco ride anche questa è del tutto inutile non solo nella campagna base ma in tutte le campagne ufficiali perché è in uno dei moduli premium wyvern crown of cormier che viene aggiunta la possibilità di andare a cavallo nel gioco io non l'ho mai provata perché non ho mai giocato quel modulo ecco se giocate quel modulo ride può essere un'abilità importante ma non nel gioco base search è l'abilità che permette di cercare trappole o porte segrete set trap permette di mettere trappole spellcraft è molto interessante perché per i maghi non certo per un barbaro ma spellcraft permette di identificare gli incantesimi che lanciano i maghi avversari questo può essere utile per organizzare meglio il combattimento spot è un po' simile a search taunt è un'altra un'altra abilità relativa al carisma collegata al carisma e poi abbiamo tumble che permette di evitare i colpi nemici mentre ci si sposta va bene perché spostandosi in giro qui ci sono gli attacchi di opportunità questo è molto importante lo vedremo meglio dopo quando vedremo il gioco in azione allora ragazzi che cosa facciamo dei nostri 16 punti allora vediamo un po' mumble 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 io forse metterei vediamo metterei heal che torna sempre utile va bene l'utilizzo dei ecco possiamo aumentarla al massimo fino a 4 ok anche discipline così non veniamo disarmati queste robe qui si mettiamo anche discipline va bene scegliamone altre due cerchiamo di concentrarci un po' invece di disperdere questi punti scegliamone altre due sarebbe bello scegliere fra le proprie fra le class però non vorrei neanche mettere quelle basate sul carisma dove partiamo già con un malus non ha tanto senso va bene magari lore può essere utile lore ma si mettiamola su lore per identificare gli oggetti e boh proviamo anche a mettere sto parry che dite ma non sono non sono convinto del parry non saprei vediamo un po' che altro scegliamo vediamo 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 proviamo l'iss ma l'iss non serve niente per un barbaro secondo me questa è sempre basata sul carisma vabbè sapete che vi dico io le butto su parry poi probabilmente non la non la utilizzerò mai va bene comunque ecco questa è stata la nostra scelta va bene andiamo avanti qui invece dobbiamo scegliere i fits allora questi sono i fits che già abbiamo i fits sono fondamentali per certe cose permettono per esempio di usare alcune permettono l'utilizzo di certe armi di certe armature va bene quindi vedete abbiamo già delle proficiencies light e medium armor barbarian fast movement ah interessante 10% di bonus al movimento siamo veloci beh carina questa abbiamo la barbarian rage vedete un'altra caratteristica della nostra della nostra classe va bene quindi the barbarian may rage gaining a 4 moral bonus to strength and constitution and 2 to all will saving throws ma in cambio di meno 2 all armor class va bene quindi cioè aumentiamo di 4 la forza della costituzione ma perdiamo 2 nell'armor class quindi diventiamo più vulnerabili ma anche più forti diciamo va bene quindi ma può essere può essere interessante come utilizzo poi possiamo usare vedete gli shield possiamo usare queste armi martial e simple e qui c'è tutta la lista vedete le armi martial sono battle axe great axe great sword halberd dandex sono quelle grandi particolarmente particolarmente grandi va bene mentre le simple sono quelle più vediamo club dagger pugnale mazza sickle sarebbe il tipo il falcetto credo si possa tradurre in italiano va bene quindi queste sono quelle che già abbiamo queste sono quelle che possiamo aggiungere ne abbiamo uno che possiamo aggiungere vediamo quello qual è quello raccomandato vediamo qual è quello raccomandato power attack ah ok il power attack permette va selezionato va bene ah certo sapete perché è importante avere il power attack direi che teniamo il power attack sapete perché non tanto per il power attack in sé va bene perché praticamente bisogna selezionarlo prima di fare un attacco e da un 5 bonus al danno ma un meno 5 all'attack roll cioè diventa più difficile colpire ma facciamo più danno non ha tanto senso ma la cosa importante è che è un prerequisito per il cleave il cleave è un'abilità passiva quindi viene usata automaticamente dal gioco che permette fondamentalmente se il mio personaggio con un suo colpo di arma uccide un nemico ottiene un attacco gratuito immediato verso un altro nemico questo è fondamentale cioè è proprio anche bello soddisfacente da vedere il cleave va bene quindi poi quando si ottiene più avanti il great cleave è ancora meglio perché fondamentalmente se ne possono concatenare se ne può concatenare un numero infinito di attacchi gratuiti fra creature con il cleave quindi noi scegliamo il power attack però sapete che vi dico lo rimando indietro solo per farvi vedere un po' di qualche un po' degli altri fits per esempio vedete qui c'è la spiegazione alertness per esempio da un bonus allo spot e all'hissern va bene possiamo scegliere di avere anche la proficiency con le armature pesanti se vogliamo fare un barbaro quindi vedete la classe ha delle caratteristiche attraverso i fits possiamo cambiare anche profondamente queste caratteristiche il blind fight vediamo cosa dà permette di combattere bene anche se si è accecati o contro creature invisibili questo può essere utile alcuni fit possono essere presi solamente al primo livello non è il caso di questo vediamo per esempio questo può essere preso solamente all'inizio va bene quindi o lo prendiamo adesso o mai più due bonus all'initiative e allo spot non ci interessa va bene vediamo questo anche questo solo all'inizio più due bonus ai resisting taunts e will saving throws sono molto precisi e specifici alcuni comunque vedete avete il dodge avete il fortitude l'initiative avete vediamo un po' resist poison per resistere al 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 veleno weapon finesse è molto importante per i ladri perché permette fondamentalmente o comunque per chiunque ha un'alta destrezza permette di usare il modificatore della destrezza per le armi in corpo a corpo per le armi in corpo a corpo in genere si usa il modificatore della forza quindi può essere fondamentale prendere questo fit per certe per certi personaggi toughness aumenta il numero di punti ferita vengono anche aumentati retroattivamente quindi lo si può prendere in ogni momento è un fit molto interessante ma forse non da prendere subito direi che noi stiamo con il recommended va bene e ci teniamo questo bel power attack va bene ci piace a questo punto dobbiamo customizzare personalizzare le caratteristiche estetiche del nostro personaggio guardate che bel personaggio bello insomma per quanto possa permettere questo motore di gioco che secondo me è pessimo dal punto di vista grafico ve lo dico così proprio apertamente ma di ciò che penso parlerò nell'apposito video qui limitiamoci alla dimostrazione allora possiamo scegliere fra facce diverse oddio diverse più o meno la faccia è sempre quella non posso neanche girarlo ma come è possibile posso scegliere fra vedete possiamo farla più slanciata o più imponente va bene facciamola imponente dai ma sì possiamo scegliere tatuaggi va bene vediamo un po' teniamo questo possiamo scegliere il clothing non ha nessuna importanza scegliere il clothing perché ah sapete tra l'altro piccola parentesi no stavo dicendo che non ha importanza perché tanto indosseremo prestissimo delle armature quindi questo vestito comunque partiamo lo terremo tipo per due minuti come vedrete e no stavo dicendo che vedete adesso è possibile anche mettersi queste vesti da mago sapete che nella prima release del gioco nella prima edizione non era possibile i maghi dovevano comunque essere in pantaloni va bene questa pensate è una caratteristica che è stata aggiunta da una patch molto tardi tipo anni dopo la pubblicazione del gioco e è stata fatta in pratica da uno dei programmatori gratis mi ricordo che lo raccontò nei social all'epoca cioè gli pesava il fatto che non ci fossero le vesti da mago devo dire che pesa personalmente anche in Skyrim sento la mancanza ne parleremo meglio quando parleremo di Skyrim ma insomma anche nello Skyrim base non ci sono delle vesti da mago soddisfacenti va bene forse perché è più difficile animarle non so adesso non sono un esperto comunque il nostro barbaro sicuramente non si metterà una veste da mago ma si metterà neanche quella specie di tunica questo guardate potrebbe essere carino che ne dite una roba un po' punk va bene ma si teniamoci questa roba qui e la head ci piace quella lì fanno un po' tutte schifo forse questa qui è la vabbè teniamo questa skin color hair color tattoo colors mettiamo un capello un po' più scuro mamma mia così è anche troppo scuro vediamo un po' così ma si vabbè non approfondiamo più di tanto ecco qui possiamo scegliere il nome e l'età e la voce va bene allora mi piace tantissimo il fatto che il gioco abbia un generatore di nomi oh questo dovrebbe esserci in tutti i giochi per esempio onde evitare che in The Elder Scrolls ci siano per soprattutto in The Elder Scrolls Online ecco quando sarò capo del mondo io imporrò ai programmatori di The Elder Scrolls Online di mettere un generatore di nomi va bene come dire calibrato programmato sulla base della razza scelta dal personaggio e devi usare uno dei nomi suggeriti non puoi mettere uno dei nomi perché non è possibile avere cioè rompe completamente la sospensione dell'incredulità avere questi personaggi con dei nomi assolutamente improbabili per le razze scelte in The Elder Scrolls vabbè comunque apprezzo molto che ci sia questo generate name che vedete fa dei nomi che hanno già un suono un po' barbarico no tipo Biradush Wogsher o Borak Vaderkin o Eurugor Brood non sembrano tanto nomi da donna eh Boragor Misco Gidishtrodi Vurk Requis potrei stare qui per ore ma mi fermerò lo prometto Vrigdish no questo è troppo difficile Grok ma non sembra un nome da donna no 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 noi non vogliamo Grok vogliamo Groka va bene uh scusate ho il Caps Lock inserito ecco qua vogliamo Groka e Molek lo teniamo vabbè non mettiamo nessun riferimento alla maschera di solito mettiamo sempre qualche riferimento alla maschera nei nomi mettiamolo anche qua Molek Mask oh vuoi mettere oh Groka Molek Mask 18 anni no non ci piace che abbia 18 anni è un po' più matura ne ha 30 va bene allora possiamo scegliere anche una voce va bene direi non Noble Scholar vedete cliccandoci sopra le sentiamo non so se le state sentendo cioè sentiamo esempi diciamo oh Fighters vediamo un po' com'è questa Cold Killer Seductress Brutish Thug questa mi piace sì 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 questa qui ci piace tantissimo fatto benissimo oh signore e signori abbiamo creato la nostra Barbaressa va bene andiamo a cominciare il tutorial e vedete comincia con un video che vi faccio vedere che vi faccio vedere che vi faccio vedere Neverwinter, jewel of the north. Behind the city's high walls, those both hardy and brave carve out an existence from this bleak land under the guidance and protection of the legendary hero, Lord Nasha Alagondar. Yet there are some things that all the courage in the world cannot stand against. A virulent plague swept the city, a terrible affliction that began in the beggar's nest. Soon, all of Neverwinter would feel the touch of the wailing death. The disease could not be cured. Panic ensued. The streets erupted into violence. The jewel of the north was brought to its knees. To save Neverwinter, Lady Arribeth de Tilmorand, Paladin of Tyr, and Lord Nasha's right hand, put forth the call for a champion. A rush of would-be heroes answered her call, some drawn by promises of grandeur and glory, others by the lure of gold. Those with the greatest potential were initiated into the academy to train and study under the greatest minds of Neverwinter, all in the hopes a champion might emerge to save the city from the wailing death and whatever sinister force might be behind it. Bene, allora, cosa dice, cosa ha detto questo video? Allora, piccolo riassunto, ha detto fondamentalmente che Neverwinter è questo, è il gioiello del nord, questa città circondata da queste nevi dove però c'è questo calore sovrannaturale, no, che protegge la città, va bene, e però in questo momento Neverwinter, la città, vive un, come dire, una tragedia perché c'è questa pestilenza terribile, la wailing death, la morte piangente, potremmo chiamarla, è una pestilenza che non si riesce a curare, quindi ha probabilmente un'origine magica, va bene, e per, diciamo, risolvere il problema, l'academy di Neverwinter, l'accademia di Neverwinter ha praticamente messo una sorta di appello, no, a degli eroi, a chiunque possa aiutare, no, contro questa wailing death, e a organizzare, questo è un reclutamento di eroi, è questa Lady Eribeth, va bene, de Tilmarand, paladina di Tyr, Tyr è una delle divinità, no, dei forgotten realms, e, ecco, questa Lady Eribeth è la protagonista della campagna di Neverwinter Nights, va bene, e non lo dico in senso lato, cioè non è la protagonista accanto al nostro personaggio, no, 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 è proprio la protagonista, e il nostro personaggio non conta quasi niente in questa storia, va bene, parleremo meglio, questo è uno dei più importanti difetti, secondo me, proprio dal punto di vista della costruzione della narrativa, che ha questo gioco, va bene, in questo gioco il nostro personaggio è colui che, diciamo, accompagna il protagonista, ma senza mai diventare il protagonista della storia, va bene, è un po', è un po' triste, no, ma ne parleremo meglio, quando, quando, nel video dove, insomma, diciamo il nostro parere sul gioco, va bene, quindi c'è questo grande problema, c'è questa, c'è questa Lady Eribeth, questa paladina, che è stata chiamata dal Lord Nasher, che è un po' il capo, diciamo, di Neverwinter, per, appunto, arruolare eroi, e noi siamo uno di questi eroi, va bene, e cominciamo nella nostra stanzetta dell'Accademia, eccola lì, vedete, muovendo il cursore agli angoli, la visuale ruota attorno al nostro personaggio, che è sempre al centro dello schermo, vedete, se io clicco, il personaggio si muove, va bene, se clicco un po' più lontano, corre, d'accordo, e, vedete, la telecamera si sposta assieme al personaggio, va bene, e vedete, se c'è qualche elemento dello scenario che ostacola la vista, si crea questo cerchio visibile, questa è una novità dell'Enhanced Edition, una grande novità implementata dall'Enhanced Edition, va bene, vedete, ci sono oggetti con cui è possibile interagire, si possono anche evidenziare, con Tab, ah, con Tab esce, vedete anche il nome del nostro personaggio, va bene, che, vedete, gira anche la testa, se vado su, se vado col cursore sopra questo chest, vediamo cosa c'è dentro questo chest, nella nostra camera, presumo, potremmo, c'è una bella club, va bene, prendiamola, e approfittiamo anche, vediamo com'è l'inventario, va bene, vedete, è semplicemente, qui le interfacce secondarie non aprono mai delle schermate completamente diverse, no, si sovrappongono, vedete, alla visuale principale di gioco, va bene, ecco, qui ci sarebbe un po' da parlare anche sullo stile, riguardo lo stile, di questa interfaccia, che è un po', no, un po' più futurista che fantasy, non lo so, secondo me non sta tanto bene con un'ambientazione fantasy questo stile, così, no, secondo me sta meglio quello che si è visto nei giochi precedenti, no, Baldur's Gate, Icewind Dale, quella è una bella interfaccia secondo me per un gioco fantasy, quest'andrebbe meglio appunto in un gioco fantascientifico, va bene, abbiamo già qualcosa nel nostro inventario, come potete vedere, abbiamo, beh, questi sono i Gladiators Outfit, che sono quelli che abbiamo scelto, va bene, ma è meglio mettere Light Armor, vedete, ecco, cliccando con il pulsante destro si apre questo Radial Menu, vedete, questo è quando il gioco venne pubblicato la prima volta, fu uno dei più importanti selling points, cioè i programmatori continuavano a parlare di quanto era straordinario questo menu radiale, no, vedete, muovendo il cursore posso scegliere, no, questo è quello che si vede cliccando con il destro in un punto vuoto, no, dello scenario, vedete, posso scegliere di muovermi in questo punto, vedete, così, ma basta cliccare, quindi è un po' stupido usare il menu radiale per quello, posso scegliere, vedete, un incantesimo, ma io non ho neanche uno, in questo caso, delle abilità speciali, vedete, e questo menu radiale funziona praticamente su ogni cosa, no, e per esempio, se clicco col destro, vedete, su questa armatura si apre questo menu radiale che permette di equipaggiarla, permette di esaminarla, vedete, c'è una piccola descrizione, va bene, penso sia meglio, eh, di quello che abbiamo, quindi, adesso abbiamo una classe armatura di 12, mettendo questa ce l'abbiamo di 15, sì, e vedete, è cambiato anche l'aspetto del personaggio, e purtroppo, l'aspetto del personaggio cambia solo in funzione dell'armatura, cioè non cambia se, beh, anche dell'elmo, i mantelli sono visibili, è un'altra novità introdotta in seguito, quando sono state introdotte le vesti da mago, però per esempio, guanti, stivali, cinture, quelle non sono visibili, equipaggiarle non cambia nulla, no, nell'aspetto del personaggio, va bene, e, cosa stavo dicendo, quindi, sì, la classe armatura è migliorata, ecco, attenzione, perché nella terza edizione, a partire dalla terza edizione di Dungeons & Dragons, i numeri più alti sono sempre migliori, che era molto diverso in Advanced Dungeons & Dragons, non so se vi ricordate, se avete visto, se avete giocato ad Advanced Dungeons & Dragons, o avete visto qualche video in cui parlavo di giochi, per esempio, Baldur's Gate, no, là c'erano alcuni valori, la cassa armatura doveva essere bassa, non essere alta, per essere buona, va bene, qui invece, qui invece, più è alta, meglio è, quindi, stiamo sicuramente meglio con questa, con questa armatura, vedete, nella, questa barra rapida in basso, vedete, ci permette di selezionare direttamente, alcune funzioni, per esempio, possiamo prendere in mano questa Hand Axe, vedete, e l'abbiamo vista comparire, nel nostro personaggio, oppure possiamo metterla via, vedete, così, abbiamo tre pozioni di Cure Light Wounds, che potremmo anche mettere tutte assieme, però, adesso vedete, qui è scompa, ma basta trascinarla, vedete, trascinandola lì, l'abbiamo sistemata, in questo, in questa posizione, e qui vedete, abbiamo il Barbarian Rage, mentre qui abbiamo il Power Attack, no, le due abilità speciali che abbiamo, potremmo anche mettere il Parry, da qualche parte, il Parry Mode, vediamo se lo trovo, eh, dov'è il Parry, Command, Other Action, Special Attack, Eccolo qua, Parry Mode, lo mettiamo, lo mettiamo lì, va bene, così possiamo attivarlo, in ogni momento, poi abbiamo, vedete qui, la quantità di, 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 di monete, va bene, per identificare, per vedere la descrizione di qualcosa, possiamo anche cliccare su questo occhio, poi cliccare, vedete, sull'oggetto, e vediamo tranquillamente la descrizione, ok, e, ecco, una cosa che un po' mi secca, ah, l'inventario, tra l'altro, vedete lo zaino è diviso in tanti settori, no, non c'è solamente questa griglia a disposizione, non c'è nessun modo per sistemare questa griglia, ma quello che stavo dicendo è che, purtroppo, questi elementi dell'interfaccia non possono essere spostati, no, cioè, in una interfaccia come questa, uno si immagina che prendendolo qui e trascinandolo in giro, eh, lo si possa spostare, invece non si può, non è una occasione mancata questa, secondo me un po' lo è, un po' lo è, vabbè, chiudiamo l'inventario, vi faccio vedere, già che ci siamo anche, altri elementi dell'interfaccia, per esempio, vedete che c'è questa, icona qui che lampeggia, questo è il journal, va bene, e vedete, ci mostra la missione che abbiamo, academy training, ok, you have trained long at the academy, and today is your final day, oggi è il nostro ultimo giorno, to begin your adventures in neverwinter, speak with each of the instructors in the complex, dobbiamo parlare con gli istruttori, all will be able to give you tutorial, information about basic skills, you will need to complete one last lesson, depending on whether your main focus is combat, rogue skills, divine magic, or arcane sorcery, bards will be able to complete any one of these tests, while most other classes must report to the experts, in their chosen field, cioè dobbiamo trovare un istruttore preciso, collegato presumibilmente al combattimento, vista la classe che abbiamo scelto, e completare il suo addestramento, è curioso il fatto che i bardi possono scegliere qualsiasi addestrattore, essendo una classe così, un po' jolly potremmo dire, va bene, quindi qui avete la categoria delle missioni, qui ci sono quelle completate, e qui ci sono le note, che possiamo aggiungere noi stessi, se vogliamo scrivere delle note nel nostro diario, possiamo farlo. Poi altre schermate che abbiamo, la mappa, questa io di solito la tengo sempre aperta, può essere organizzata in vari formati, vari formati, vedete, è piccola, quindi insomma non disturba, si può tranquillamente ad altre risoluzioni, tenere sempre aperta, va bene, poi avete le caratteristiche del personaggio, vedete, dove vedete tutte le caratteristiche, i modificatori, va bene, tutte le varie caratteristiche anche secondarie, le skills, vi ricordate, quindi questi sono i valori che abbiamo nelle nostre skills, e anche tutti i nostri fits, ricordate, che abbiamo scelto qualche minuto fa, va bene, qui c'è il tasto per dormire, qui c'è il tasto con gli incantesimi, va bene, non ne abbiamo neanche uno, ok, quindi è completamente vuoto, magari ne parleremo quando vi farò vedere il mio altro salvataggio, e poi abbiamo naturalmente le opzioni, va bene, ma cominciamo a vedere, abbiamo anche uno zoom tra l'altro, vedete, guardate lo zoom, è stato anche ampliato nell'enhanced edition, quindi possiamo andare vicinissimo, e vedere con orrore, guardate, la grafica di questi personaggi, che è veramente, no, spiace dirlo, ma insomma la grafica di questo gioco, secondo me, è largamente insoddisfacente, sono invecchiati molto meglio i giochi in due dimensioni, sono molto più belli da vedere, ma erano più belli da vedere anche al momento dell'uscita, io non, c'era qualcuno che diceva, che grafica, io sinceramente non ho mai capito perché questa grafica, possa essere, questo sistema grafico, possa essere, possa aver scatenato entusiasmi, ma vabbè, forse c'entra anche il gusto personale, va bene, andiamo fuori dalla nostra stanza, e c'è questo tizio con la torcia in mano, che ci deve dire qualcosa, vedete, oh, e penso parli anche, sì, sta parlando, finalmente, you're up, finalmente, no, ti sei alzata, quindi presumibilmente stavamo dormendo, I was afraid you were going to sleep all day, ecco, pensavo dormissi tutto il giorno, I guess the instructors work you pretty hard, da here at the academy, no, probabilmente vuol dire che gli istruttori ti stanno facendo fare molta fatica, no, se dormi così di gusto, continuo, ok, possiamo o cliccarci col mouse, o premere il tasto 1, ok, ecco, vedete, ovviamente non legge il nome del nostro personaggio, perché sarebbe, ovviamente, impossibile doppiare tutti i nomi, no, esistenti, comunque, si è semplicemente presentato, no, sono, sono Pavel, sono una delle new recruit, sono una degli ultimi arrivi qui, alla academy, e noi possiamo, vedete, già dissimulare, no, dire, no, no, sono io, assolutamente, oppure possiamo dire, sì, sono io, vabbè, diciamo, sì, sono io, oh, e lui dice, ma è vero quello che dicono a proposito di, quello che dicono di te, che Eribeth, la stessa Eribeth, ti ha scelto, per, come, come, come suo pupillo, no, di venire qui, per essere addestrata, ok, e lui ci dice, non ho mai sentito che qualcuno potesse essere invitato, no, all'accademia, usually people are begging to get in, cioè, normalmente le persone pregano per entrare, it must be a great honor, deve essere un grande onore, no, ecco, qui abbiamo tre risposte possibili, vedete, possiamo essere molto gentili e formali, sì, è un onore, è un privilegio, ok, possiamo essere, come dire, molto arroganti, no, beh, quando uno ha il mio talento, no, insomma, si abitua a questi, a questi onori, va bene, oppure possiamo dire che non ce ne importa niente, chi si, chi si, chi si importa dell'onore, sono venuto qua solo perché ho sentito, no, la possibilità di ottenere un real profit, la possibilità di guadagnare qualcosa, va bene, cosa facciamo? Non voglio fare il tipico personaggio buono qui, eh, facciamo qualcosa di un po' diverso, o profit, o, ma sì, proviamo a scegliere il tre, vediamo cosa ci dice, ah, quindi sei venuto qua per, per i soldi, eh, beh, non sei il solo, ok, ma qualcuno di noi è venuto qui anche per ragioni differenti, andiamo avanti, mio fratello Bim e io stavamo lavorando in una delle fattorie qui vicino, quando abbiamo sentito che Lady Erybeth stava cercando eroi, no, che dovevano venire per aiutare Neverwinter, sapevamo che la città stava soffrendo, ma non avevamo idea che le cose fossero così terribili, fin quando non siamo arrivati qua, e appena siamo arrivati hanno chiuso le porte e hanno messo la città in quarantena, quarantined the city, va bene? Il termine quarantena, che usiamo in Italia, è diffusissimo, eh, in tutte le lingue, scusate, piccola parentesi, momento Alberto Angela, è diffusissima in tutte le, 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 le lingue, e non tutti sanno che ha un'origine veneziana, eh, io vi parlo da Venezia e lavoro come guida di Venezia, quindi parlo spesso di questi temi, e, eh, perché appunto i veneziani, che erano una delle città commerciali più importanti del mondo, del mondo premoderno, anzi forse la città mercantile più importante nell'Europa premoderna, eh, o meglio, pre-contemporanea, eh, ecco, eh, utilizzava, no, il, aveva come, come consuetudine, quando qualcuno veniva da luoghi dove c'erano pestilenze, ma anche quando qualcuno arrivava a volte, no, da luoghi, boh, sconosciuti, no, tipo, eh, metterli in quarantena, fargli passare 40 giorni, in apposite isole attrezzate della Laguna Veneta, per evitare, no, che spandessero il morbo, e per far sì che il morbo si spegnesse, per così dire, no, quindi, è interessante il fatto che questa parola, che è diventata così comune ai noi, no, anche, anche in questo momento, in questi mesi che stiamo vivendo, sto registrando questo video durante la pandemia, no, da Covid-19, eh, è interessante che abbia un'origine così antica, e che sia così radicata nella nostra storia locale, no, qui, italiana, no, eh, comunque, va bene, andiamo avanti, continue, eh, per fortuna sono stato accettato, ci sta dicendo sempre questo Pavel, all'interno dell'Academy, non avrei mai voluto, no, rimanere fuori con la Plague, con la pestilenza, no, con le guardie che non sono neanche capaci di tenere l'ordine in città, abbiamo quattro risposte possibili, ok, non so tanto riguardo alla Plague, eh, cosa intendi quando dici che le guardie non riescono a mantenere l'ordine? Parlami di tuo fratello, non mi interessa parlare con te, va bene, eh, vediamo un po', cosa gli diciamo? Diciamogli il primo, vediamo, la Wailing Death è una plague, è un terribile, no, la più terribile di, 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 qualunque piaga sia stata registrata, no, nella storia di, di, di Neverwinter, la città, tutta la città è in quarantena e nessuno può entrare o uscire, ci dice Pavel. La milizia di Neverwinter fa del suo meglio, no, per mantenere questa quarantena, ma naturalmente alla gente non piace, no, essere intrappolata all'interno delle mura di una città, infestata dalla plague. Eh, è interessante giocare, no, questa cosa proprio nel momento in cui si sta verificando la pandemia da Covid-19. Andiamo avanti. Every day, ogni giorno more bodies pile up in the streets. Ogni giorno si accumulano corpi, cadaveri, nelle strade della città, and the citizens move one step closer to panic and open rebellion. Cioè la cittadinanza diventa sempre più propensa al panico e alla ribellione. E can't say I blame them, non posso dire che, non posso biasimarli, insomma, li capisco. It's only been a few months, and already the dead numbers are in the thousands. Qui manca un verbo, secondo me, ma non importa. sono passati solo pochi mesi e già ci sono migliaia di morti. E abbiamo quattro risposte ancora. Shouldn't someone be looking for a cure? Non dovrebbe qualcuno cercare una cura. I cleric e i priests non possono fare niente per aiutare? Sembra che questa città sia destinata a scomparire, no? Sembra che sia condannata, doomed. Beh, bella storia, me ne vado. Ok, è la quarta opzione. E proviamo a chiedergli, no, riguardo alla cura. Ah, ma la maggior parte delle persone ha, come dire, abbandonato le speranze che si possa trovare una cura. Perché le pozioni e le erbe medicinali non fanno nulla. E le preghiere, no, dei più importanti chierici della città sono state completamente inutili. Ok? E penso sia questo il motivo per cui Lady Eribeth ha chiesto nuove, no, reclute per l'Accademia. La città ha bisogno di un eroe. qualcuno che ci possa salvare da questa pestilezza. E indovinate chi sarà questo eroe. Imprevedibile, imprevedibile. Andiamo avanti. The word on the street is that Eribeth is actually working on a cure. Quindi si dice, no, che Eribeth stia lavorando a una cura, qui, qui all'Accademia. Ma forse è solo un rumor, forse è solo un pettegolezzo, no? Probabilmente non è vero. Va bene. Ancora abbiamo quattro risposte. Can you tell me anything else about this plague? Puoi dirmi qualcos'altro riguardo a questa piaga? Do you know anything more about these rumors? Sai di più riguardo a queste dicerie, no? Di una cura. Anything else? Puoi dirmi qualcos'altro? I think it's time for me to go. Penso sia il momento di andare. Vediamo. Puoi dirmi qualcosa di più riguardo a questa cura? I only know what people are saying on the street. So solo quello che si dice nelle strade. Qualcuno dice che Haribeth ha una cura e comincerà a distribuirla presto. Altri dicono che invece si terrà la cura per lei. Va bene. Andiamo avanti. Ma sono solo pettegolezzi. Probabilmente qualcuno che è qui all'Accademia da più tempo rispetto a me saprà qualcosa di più. No? riguardo a questa cura. Sempre se questa cura esiste. If there even is one. Va bene. E vediamo. Puoi dirmi qualcos'altro? Se vuoi puoi parlare con Bim over at the door, suo fratello. If you want some tips on adventuring. Va bene. Otherwise, you should go see Olgert in the next room. He's the one in charge of equipping us recruits for our training. Quindi puoi parlare con mio fratello. Se vuoi altre indicazioni. Puoi andare da questo Olgert che ha il compito di equipaggiarci. Quindi possiamo presumibilmente magari comprare qualcosa da questo Olgert. Andiamo avanti. A parte questo, non so cos'altro dirti. Sono solo una new recruit. Sono solo una nuova recluta. Va bene. Va bene. Direi che lo salutiamo. Ok. Yes, I suppose you need to go on with your training. You probably need. E ci dice la stessa roba. Parla con Olgert. E poi finisci il tuo training. Va bene. If you want any tips on Instagram. Ecco, vedete. Ripete. Vai da Bim, mio fratello. Ecco. Sapete cosa vi dico? Stiamo vedendo. Questo è bello. Mi piace che sia così. Va bene. Stiamo vedendo in pochi minuti alla fine. Abbiamo appena iniziato praticamente. Stiamo vedendo alcune delle criticità di questo gioco in tutto il loro splendore. Anche per esempio questi dialoghi che sono prolissi ma... Beh, vabbè, che sono prolissi, punto. Perché la parola prolisso ha già in sé una connotazione negativa. Non è una parola neutra. Prolisso. Sono, cioè... Come dire? A volte avremo l'impressione che i personaggi continuino a dirci la stessa cosa tre volte con parole differenti. Proprio è costante, ci accompagna costantemente in questo gioco, spiace dirlo, mentre si gioca la campagna principale. La sensazione è che i programmatori stiano cercando di allungare il brodo, mi verrebbe da dire, in ogni modo possibile. Vabbè, ancora una volta parleremo meglio di tutto questo nel nostro video dedicato al nostro parere. Concludiamo questo dialogo e bim, anzi Pavel, se ne va. Va bene? Andiamo avanti, ok. Ma possiamo forse rubare quello che c'è nelle altre stanze? Vediamo, vediamo se succede qualcosa, se rubiamo. Di solito in questo gioco, qui per esempio cosa c'è? Beh, c'è una bella copper necklace, prendiamola. Tanto siamo dei barbari, no? Non è che abbiamo delle remore morali. Cosa c'è in questo armadio? Vediamo un po'. In questo armadio c'è un utilissimo floor spar. In genere queste pietre e collane servono solo per essere vendute, per ottenere denaro. Andiamo avanti. Dicevo che in questo gioco comunque non è come in Baldur's Gate. In Baldur's Gate bisognava stare attenti a rubare nelle case, potevano arrivare le guardie, bisognava farlo di nascosto. Sapete che secondo me non esiste questa cosa in Neverwinter Nights. In Neverwinter Nights si può rubare impunemente dalle case, tranne casi particolari, no? In cui è scriptata una certa reazione. Ma normalmente sì, vabbè, Bim vuole parlarci. Andiamo a parlare con Bim. Cioè è proprio uguale tra l'altro, sono due fratelli gemelli questi qui. Allora, questo qui ci spiegherebbe come muoverci, come interagire con gli oggetti. Non faremo questa parte del tutorial, va bene? Quindi diciamo due. Ok, suit yourself, arrangia, Tingo, vai attraverso questa porta e speak to Olgerd, va bene? E finiamo il nostro training. Quindi andiamo dal buon Olgerd, eccoci qua, siamo nelle training halls, e questo è il buon Olgerd, va bene? Ecco, questo Olgerd ci ha detto, bene, sei venuto a prendere delle supplies, delle mercanzie da Olgerd, no? Ottima idea, non possiamo mandarti in giro per le strade nudo, darebbe un brutto nome alla Academy. Andiamo avanti. Le guardie cittadine stanno già avendo problemi a mantenere il controllo della città, no? I corpi della plague si accumulano, no? Nelle strade. La Wailing Death sta proprio correndo, no? Unchecked, non controllata, in maniera incontrollata, attraverso i distretti della città. Terribile, no? Andiamo avanti. Sì, ma sono sicuro che hai già sentito tutto questo. Ecco, ci ha dato dell'equipment gratuitamente, è una chain shirt. A Barbarian, like you might find it handy in completing your training. Ah, quindi a seconda della classe ci dà qualcosa, no? Quindi non è un negozio in realtà, sembra, o forse diventerà anche un negozio, vediamo. Now, if you're ready, I'll give you a tutorial on how to access your inventory, so you can use the equipment I just gave you. Per carità, no, 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 se vuole darci un tutorial su come usare l'inventario, sappiamo già come usare l'inventario, quindi non serve. Oppure vuole insegnarci come funzionano i negozi, ma noi andiamo avanti e gli diciamo, vediamo un po'. I don't need a tutorial on how to use the stores. Non mi serve il tutorial, va bene. Vuoi vedere cosa ho a disposizione? Sì, ok? Quindi vediamo, when you're done, you'll find the door leading out of this room unlocked. Va bene, quindi siamo costretti appunto a interagire con questo holgerd e poi possiamo continuare. Ecco, la praise ci ha detto che questo mercante non è particolarmente favorevole nei nostri confronti, vabbè, ce ne faremo una ragione. Abbiamo una bella chain shirt che ci ha dato in regalo. Adesso dobbiamo vedere perché, vedete, io posso aprire tante di queste finestre. Allora, questo è il suo inventario, va bene. E posso, vedete, aprire anche la finestra delle caratteristiche. Perché è utile aprire la finestra delle caratteristiche? Per vedere qual è il bonus massimo che io posso ottenere con la destrezza su questo personaggio. Vedete, il bonus è 2, va bene. Quindi vediamo qual è il bonus massimo di destrezza che mi dà questa chain shirt. È 4, ottimo, quindi ci siamo dentro. Posso tranquillamente metterla. Questa invece era sempre 4 e ci dava un armor class di 3. Questa invece ci dava un armor class di 4. Bene, quindi aumenterà di 1. Ci mettiamo questa chain shirt. Ottimo, vedete. E siamo andati a una protezione di 16. Ed è anche cambiato, vedete, l'aspetto del nostro personaggio. Adesso abbiamo la chain shirt. Molto bene. Quindi possiamo, direi, vendere. Vedete, se ci vado sopra col puntatore del mouse, dall'altra parte qua, vedete, il costo. Cioè quanto otteniamo vendendo questo oggetto? Direi che vendiamo tutta sta roba, va bene. Quindi vendiamo questo, vendiamo questa club, vendiamo quest'altro, vendiamo questo qui e vendiamo questo qui. A questo punto abbiamo 125 l'actor, ce la teniamo. Può sempre essere utile, va bene. E anche le pozioni ovviamente le teniamo. Ecco, prenderei un'arma un po' più grande di quella lì, va bene. Vediamo, potremmo usare lo scudo. Vedete, non c'è nessuna armatura particolarmente interessante. Ma se fra le armi, per esempio questa bella battle axe, con cui abbiamo l'abilità relativa, secondo me è molto più bella di quella. Vediamo che danno fa, scusate. Fra 1 di 8, ok? Invece questa qui fa 1 di 6, vedete? Quindi si fa più danno, no? Questa battle axe. Quindi io prenderei quella, va bene. Vediamo che altre armi ha. Anche la double axe. Però non possiamo metterla, perché? Perché è exotic, vedete? Il fits required è exotic. Quindi noi non possiamo maneggiarla. Però questa great axe, sì, che fa un di 12. Ci piace, ci piace. A favorite of barbarians. Guardate cosa dice la descrizione. Quindi la compriamo assolutamente. Costa 40 denari. Benissimo. Ok? A questo punto vendiamo anche questa hand axe. E qui, vedete, mettiamo questa qua. Ok? Quindi, vedete, l'interfaccia è anche molto funzionale, no? Adesso, cliccando qui, vedete, possiamo prendere in mano questa bella, questa bella ascia. Vedete che l'abbiamo presa in mano? La tiene un po' come un bastone da passeggio, ma insomma l'ha presa in mano. Ha anche delle belle, delle belle decorazioni, sembra, questa double axe. Vabbè, ma adesso mettiamola via, perché non vogliamo spaventare il povero Holgerd. Ok? Quindi abbiamo preso questa bella arma. Poi vediamo un po' cosa potremmo prendere. Delle altre pozioni non prenderei più niente, eh. A un barbaro non serve, nel momento in cui il barbaro... Vedete, qui sono gli healer's kits, ok? I thieves tools servono per scassinare, ma non sono necessari comunque. Ci danno un bonus, ma non è che è necessario averli, va bene? Le trappole, la torcia, vabbè, anche basta direi, va bene? Quindi così è come funzionano i negozi, vedete? Molto, molto semplice, no? Molto tranquillo. Benissimo. Vediamo se c'è qualcos'altro di interagibile in questa stanza da rubacchiare, no? Niente. Quindi proseguiamo nella stanza successiva, va bene? Vediamo chi c'è nella stanza successiva. C'è per esempio Berna. Cosa ci dice Berna di bello? Eh sì, siamo proprio uno degli studenti dell'accademia. Cara Berna, vediamo cos'altro ci dice. Ah, lei vorrebbe dirci come funzionano la mappa e il journal, il diario, va bene? Ma noi non vogliamo, non ci interessa questo tutorial, quindi diciamo not interested, va bene? Piuttosto facciamogli delle domande più generiche. May I ask you some questions? Ma certo, noi istruttori siamo qui per guidare gli studenti, no? Come potresti se no completare il tuo training, va bene? Cosa puoi dirmi della Wailing Death? Io so che la quarantena ha fatto ben poco, non ha veramente stoppato, diciamo, l'affliction from spreading, va bene? C'è mistrust e fear among the people, quindi ha fatto più danno, no? La quarantena ha in realtà spaventato le persone e le ha rese malfidenti, va bene? Lady Arribeth fa meglio che può per mantenere la pace, ma i rumors are beginning to fly, cioè le pettegolezzi stanno girando, no? Qualcuno dice che c'è some dark evil behind the Wailing Death, che ci sia un male oscuro dietro questa pestilenza, va bene? Soon the panic may lead to open rebellion. Attenzione perché questo panico può diventare aperta a ribellione. I pray we of the Academy are not forced into battle against the citizens. Sarebbe terribile se noi, soldati dell'Accademia, dovessimo combattere contro i cittadini di Neverwinter. They are the very people we are supposed to protect, cioè sono coloro che dovremmo proteggere, quindi sarebbe veramente paradossale, no? Dice la nostra cara Berna. A questo punto possiamo chiedere di Lady Arribeth, possiamo chiedere se sa qualcosa riguardo a una cure, una cura per la plague, oppure possiamo chiederle dove possiamo andare per completare il nostro training, va bene? Chiediamole di Arribeth. Lady Arribeth, detto il Marand, è un paladino di Tyr. È giovane, sarà giovane, ma ha dato prova già del suo coraggio e della sua devozione a Neverwinter e a Tyr. Andiamo avanti. E lo stesso Nasher Alagondar ha dato a Lady Arribeth l'incarico di salvare Neverwinter dalla Wailing Death. È qui all'Accademia, tra l'altro, Arribeth, adesso. È nella South Assembly Hall, ci dice questa Berna. Quando hai finito il tuo training puoi andare, puoi andare a incontrarla, va bene? Chiediamole cosa sa riguardo a una cura. Tre, vediamo un po'. Hai sentito questo pettegolezzo? Anche tu dovresti concentrarti sui tuoi studi, non sul pettegolezzo. Quindi ci sgrida un po', eh, Berna? Arribeth senza dubbio sta cercando una cura, ma non c'è niente di ufficiale a riguardo. E diffondere pettegolezzi, a proposito di una cura che sarebbe conservata all'Accademia, è pericoloso, no? Dice Berna. Perché attira attenzione che non vogliamo attirare. La gente è disperata per una cura. Così disperata che potrebbero anche attaccare l'Accademia, no? Se dovessero pensare davvero che noi abbiamo una cura. Va bene? Dove posso andare per completare il mio training? Beh, vai through the exit in the southwest corner of this room. Vai nell'angolo sud-est di questa stanza. E l'Academy Training Rooms are in the hallway beyond. Oltre troverai le Training Rooms. Va bene? Una volta che hai finito il tuo training, puoi andare a incontrare Heribet in the South Assembly Hall. Va bene? Salutiamo Berna. Ecco qua. E vediamo se possiamo prendere qualcosa da questa stanza. Per esempio c'è un bel bookshelf. Va bene? Dove probabilmente è un po' inutile prendere i libri. Vedete? Si possono leggere, non sono mai troppo lunghi. Però, insomma, questo è anche abbastanza corposo, diciamo. Se hanno informazioni sulla lore, non è così importante prenderli. Però, vediamo, c'è una Book Piles qua, dove forse ci sarà un altro libro. Vediamo. Sì, History of the Creator Races. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti. E finiamo in questo bello stanzone, dove troviamo questo Herban. Oh! Ok, questo Herban ci dice, finalmente sei arrivata, Groca. Mi chiamo Herban, ma per quanto ti riguarda, semplicemente chiamami Sir, Signore. Va bene? Continuo. Il mio lavoro è insegnare a voi, reclute, ok? Alcuni consigli sul combattimento. Così che you maggots, così che voi, come potremmo tradurre, che voi pulci vermi, non veniate, no? Gatted, non veniate squartati quando uscirete nel mondo. Va bene? Bene, recluta, non stare lì con quella espressione stupida sulla tua faccia, no? Com'è? Sei pronta per cominciare il tuo combat training? No? Sei pronta? E noi qui possiamo dire, sì, sono pronta, Signore. No, Signore, non sono pronta, ok? Sì, vabbè, dai, facciamo sta roba. Oppure, so già tutto riguardo al combattimento. Cos'è con tutto sto gridare? Dovrebbe forse ispirarmi? Ok? Proviamo a fare un po', siamo una barbara free will, ok? Quindi proviamo a dire, boh, vediamo un po'. So già tutto, ok? Davvero? Beh, spero sia vero, no? Dice Herban, ok? E mi dice anche, I give you one last chance to change your mind and listen to my tutorial on basing combat techniques. No, per carità, non vogliamo questo tutorial. Not interested, ok? A questo punto però dobbiamo, facing one of the Academy's combat tests. Dobbiamo fare un combat test. Go to, speak to my assistants. Corporal Dendy can test you in melee weapons. Ranged weapons, Corporal Hewitt. Quindi noi vogliamo questo Corporal Dendy, va bene, vediamo se lo troviamo. Dov'è? Sarà lui? Eccolo qua, Dendy. Andiamo da Dendy. Oh! Ok, Herban ci dice, scusate, Dendy ci dice, Herban ti ha mandato qui, no? Per il tuo addestramento al combattimento. Bene, il mio nome è Dendy e sono specializzato in combattimento in corpo a corpo. Sei pronta per cominciare il tuo test finale? E noi diciamogli, sono pronto. Non preoccuparti, non è niente di che. Dobbiamo semplicemente combattere io e te. I'll be in parry mode the whole time, trying to deflect your attacks. Lui si metterà in parry mode. All you have to do is hit me once to pass the test. L'importante è che tu riesca a colpirmi una volta, va bene? All if you prefer, all you have to do is use your weapons to destroy the target dummy next to me. The choice is up to you. Either attack me or the dummy. Ah, possiamo anche decidere di attaccare questo fantoccio se preferiamo, va bene? Since I'm not hostile, you have to right-click on me, and select the attack icon from the menu if you want to attack me. Vabbè, questa roba detta da un personaggio rompe un po', no? Rompe un po' la finzione, diciamo. Vabbè, grazie Dendy per avermi spiegato come funzionano i menu. Non so come tu possa avere idea di come funzionano, ma andiamo avanti. Quindi o attacchiamo questo combat dummy o attacchiamo lui. Beh, prima prendiamo in mano la nostra bella ascia. Direi che attacchiamo lui, va. Attacca, vediamo. Oh, benissimo. L'abbiamo preso a primo colpo, va bene? Weapon in effective, perché lui presumibilmente sarà immortale, no? Essendo noi nel tutorial. Bene, mettiamo via l'arma e andiamo a parlare di nuovo con Erban, mi pare di aver capito. No? O no? Ah, no. Ah, in reddito continuo my training. No, ma abbiamo già... Abbiamo già finito, credo. Quindi non dobbiamo andare avanti, presumibilmente, no? Parliamo di nuovo con lui, scusate, non ho capito. Hewitt, dobbiamo andare da Hewitt. Ah, perché dobbiamo anche allenarci con le armi a distanza? Ma no. Ma non ci interessano le armi a distanza, siamo costretti a fare questa cosa. Apparentemente sì. Boh. Ok, ma secondo me non è necessario quello che facciamo. Gli abbiamo detto, no, 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 ho già fatto il test con le armi. Proviamo ad andare avanti, vediamo se ci bloccano o se ci fanno proseguire. Ah, tra l'altro, guardate, piccola curiosità, adesso non andrò più di tanto a parlarne, ma vedete qui, guardate, c'è uno zoo, lo zoo dell'accademia, dove si possono vedere, vedete, è così, è stata... Trovo sia un'idea carina, no? Durante il tutorial si possono vedere, vedete, dei mostri di livello molto alto, Luke Horror, Lumber Hulk, il Dire Spider, ok? L'Ether Cup, vediamo un po', vedete, quando si clicca su una creatura ostile, viene anche un challenge rating, cioè un giudizio su quanto difficile o facile è il combattimento con quell'entità ostile. In questo caso, vedete, è impossible, va bene? Per, ovviamente, il nostro personaggio di primo livello, combattere contro questo Amber Hulk, va bene? Luke Horror è overpowering, Ether Cup è overpowering, è un po' tutto overpowering, vediamo il ragno, impossible, lo Stag Beetle, impossible, ecco, vabbè, però almeno abbiamo visto alcune creature. Ecco, secondo me il modo in cui sono descritte le creature è molto meglio del modo in cui sono descritte i personaggi, o meglio, le creature umanoidi fanno abbastanza schifo, graficamente parlando. Invece i mostri, alcuni sono orribili, altri invece sono piacevoli, piacevoli allo sguardo, cioè credibili, diciamo. Bene, vi ho fatto vedere anche lo zoo, si può parlare con questo Ferdinand, che è il guardiano dello zoo, ma insomma adesso non voglio prolungare più di tanto questa cosa. Vedete, in queste altre stanze c'è, vedete, per esempio qui c'è l'Arcane Magic Training, quindi possiamo comunque parlare, no, con questo Jaru, però non è obbligatorio parlare con lui per un personaggio, per un barbarian, va bene, un mago, no, deve venire qui a fare il suo addestramento, anziché fare quello del combattimento che abbiamo fatto noi. Poi ce n'è un'altra stanza per i chierici, vediamo un po'. Questa è quella per i chierici, dove vedete bisogna scacciare i non morti, c'è uno scheletro lì pronto per l'addestramento, e poi ce n'è una per i ladri, no, i ladri invece devono venire ad addestrarsi qui, dove ci sono gli scrigni da scassinare, i personaggi da derubare, va bene? Quindi anche questo, no, anche questa è una cosa, sì, è fatto bene, no, come tutorial. Vediamo se questo tizio ci fa andare avanti. Ah, quindi dobbiamo per forza fare quell'altro, quell'altro recruiting. Niente, non posso andare avanti, non posso andare avanti finché non ho fatto anche il recruiting. Beh, questa è una bomba un po' stupida, però, eh, quindi stavo dicendo che questo tutorial è fatto bene, ma insomma, non tantissimo. Vabbè, torniamo dal tizio di prima e facciamo l'allenamento con le armi a distanza. Allora, dove sei? Beh, qui in questa weapon rack prendiamo un bello short bow e un po' di arrows, va bene? Chiudiamo, mettiamocene addosso, ecco qua, benissimo, siamo pronti con l'arco in mano. Ok, I'm ready, benissimo, dobbiamo colpire il bersaglio che c'è là in fondo, va bene? Colpiamolo, vai! Perfetto, benissimo, bene. Perfetto, benissimo, e adesso ci dice che, ecco, questo suono indica che abbiamo completato una missione, adesso ci dice che dobbiamo andare da Lady Eribeth, va bene? Non farò nessun'altra domanda, va bene? Voglio andare un po' avanti, ok? Ok, mettiamo via quest'arco, ecco, gli ho fatto prendere in mano l'ascia per poi rimetterla via, così da mettere via questo arco. Adesso dovremmo poter, no, non è di qua, adesso dovremmo poter proseguire, va bene? Si può anche tenere premuto il pulsante sinistro del mouse, per continuare a correre in una certa direzione. Adesso tu mi fai passare, però, eh? Oh, benissimo, I'll be going, non ti voglio fare nessuna domanda, ciao, andiamo a incontrare, oh, eccoci qua, a incontrare Eribeth, eccola là, e vediamo cosa ci dice. Congratulazioni, i tuoi giorni di addestramento all'Accademia sono finiti, che la benedizione di Tyr possa arrivare su di te, va bene? E attenzione perché ogni volta che parla Eribeth scatta anche la sua colonna sonora associata, non succede solo con Eribeth, ma anche con altri personaggi nel gioco. Ecco, questa è un'ottima idea, eh, che secondo me viene usata poco. Mi viene in mente, per esempio, che viene usata in The Witcher 3. In The Witcher 3 ci sono alcuni personaggi collegati a delle musiche, e questo aiuta moltissimo, eh, non solo l'immedesimazione. A volte questa cosa può essere usata anche per suggerire indirettamente il fatto che alcune persone sono coinvolte in determinate azioni o in determinati eventi, senza mostrarle direttamente, no? Quindi, sì, è una caratteristica, diciamo, interessante, no? Questa cosa della colonna sonora associata al personaggio. Va bene, tutto quello che dice Eribeth è doppiato, eh, anche bene, è parlato, anche molto piacevole da ascoltare. Andiamo avanti. Bene, molto contenta di averci incontrato, perché gli istruttori parlano molto bene delle nostre abilità. Sono Lady Eribeth, di Tilmarand, si è presentata a noi. Forse dopo la cerimonia, così, della graduation ceremony, possiamo parlare in privato, perché Neverwinter potrebbe davvero, ha davvero bisogno, no? Di una donna come te. Attenzione, però, avete sentito? Pare che si sia under attack. Attenzione, sta succedendo qualcosa, facciamo finire il dialogo e questo qualcosa succederà. Ecco, questi maghi, Unknown Mage, si teletrasportano. Andiamo a combattere contro questo Unknown Mage. È Near Death, benissimo, l'abbiamo colpito. Andiamo contro questo qui. Vabbè, noi indipendentemente da cosa facciamo, vedete, esce... Ecco, abbiamo avuto un attacco di opportunità, non so se avete notato. L'abbiamo fatto esplodere in mille pezzi. Un attacco di opportunità, perché questo mago stava lanciando un incantesimo, va bene? I Must Speak adesso dirà per ore che deve parlare, che deve parlare con noi. Parliamole. Non c'è tempo, questo non è un attacco casuale, quello che abbiamo appena subito. Ecco, in realtà noi qui non l'abbiamo ancora scoperto, ma probabilmente se avessimo parlato con tutti, qualcuno ci avrebbe detto, qualcuno dei vari personaggi, dei vari addestratori, ci avrebbe detto che questa cura la stanno creando, qui in questa Accademia ci stanno creando davvero una cura per la Wailing Death, utilizzando queste creature, Water Davian Creatures, vengono chiamate nel corso del primo atto appunto della campagna, queste creature da Water Deep, portate all'Accademia per cercare di estrarre da queste creature gli ingredienti, per fare una cura per la Wailing Death. Eh, doveva essere un segreto, ma è chiaro che il nostro segreto in realtà è trapelato, almeno i nostri nemici lo sanno, dice Arribeth, questo attacco proverebbe questo. E noi possiamo dire, enemies, chi sono questi enemies? Che nemici abbiamo? Tutti all'Accademia sanno delle Water Davian Creatures, ma quelli che ci hanno attaccato sono tutti morti, quindi The Threat is Over, la minaccia è passata, no? Cosa facciamo? Diciamogli, chiediamogli chi sono i nemici. Neverwinter ha molti nemici, dice Arribeth. Alcuni si dichiarano tali apertamente, no? Per esempio la città di Luskan, che si esplorerà peraltro nel corso dell'avventura. Altri invece mantengono la loro identità celata, no? E ci colpiscono dalle ombre. Non so chi abbia organizzato questo attacco, ma è chiaro che sono qui per distruggere le nostre speranze di dare un termine alla Wailing Death. Dobbiamo proteggere queste Water Davian Creatures, non possono essere... non possiamo lasciare che vengano... che cadano in mano nemica, no? E noi dobbiamo dire, dove sono queste Creatures? Oppure, wait a minute, you're not coming, non vieni con me? Chiediamogli dove sono. Ti accompagnerai volentieri dove sono queste creature, ma temo che la mia presenza sarebbe... renderebbe proteggere queste creature più difficile, se non impossibile. I coloro che ci hanno attaccato sono comparsi in questa stanza. Probabilmente il loro arrivo era collegato magicamente, centrato magicamente su di me, dice Aribeth. Forse hanno pensato che io fossi insieme a queste Water Davian Creatures. Forse anche adesso il nostro nemico ci sta osservando... no? Ci sta osservando attraverso di me, diciamo. E sperando che io lo porti dove sono queste Creature, non possiamo correre questo rischio. Quindi ci dice, devi fare questo tu da sola, no? Dice Aribeth al nostro personaggio. Vai, torna indietro nel corridoio che conduceva verso questa stanza, prendi l'altro corridoio a destra e dovrebbe portarti alle camere dove sono le Water Davian Beasts, dove sono queste Creature, va bene? Perché dovrei ascoltarti? Visto che siamo un Free Will, diciamogli il numero due. Ci sono le vite di centinaia, di migliaia di persone innocenti, no? Che sono coinvolte in questa storia. Se le Creature vengono perse, non potremo mai fare una cura per la Wailing Death. Se questo non è sufficiente per ottenere la tua loyalty, la tua fedeltà, sappi che ci sarà anche una grande ricompensa se riesci a salvare queste Creature. Vabbè, diciamogli I will do as you command. Ci ha dato una chiave che aprirà una porta e ci ha detto, oh, sto qua, sperando che la mia presenza qui possa, come dire, portare il nemico via dalle Creature, no? Lo sguardo del nemico lontano dalle Creature. E stranamente ci ridice la stessa cosa, no? Una caratteristica costante, come vedete, di questo gioco. Va bene. Il fato di Neverwinter dipende da noi, va bene, che possa Tyr essere con te, va bene? Va bene, direi che a questo punto obbediamo a Arribeth, va bene, andiamo qui e torniamo nelle Training Halls, va bene? E a questo punto troviamo un nemico cattivo, ok? Che se ne va, senza neanche darci il tempo di attaccarlo, però lasciando, vedete, dei Goblin, dei Weak Goblin, che il nostro Barbaro distrugge, vedete? Proprio senza colpo ferire, no? I numerini indicano la quantità di danno, va bene? Ecco, il combattimento è simile a com'è in Baldur's Gate, nel senso che anche qui c'è, vediamo, qui ci sono degli altri, vedete? Sono tutti Weak Goblin, vediamo, vedete, sono easy, no? Vi ricordate che cliccando sulla loro descrizione... Tra l'altro è interessante il fatto che ci siano descrizioni dei nemici, questa è anche una... Questa è un upgrade, invece, no? Rispetto a Baldur's Gate, che ci siano queste descrizioni, è sempre piacevole, no? Leggerle. Adesso però ci vedranno, eh? Si stanno avvicinando a noi. Ecco, attacco di opportunità, vedete? Oh! Stavo dicendo che il combattimento organizzato, vedete, posso mettere in pausa, ecco, adesso l'avrò già ammazzato, sì. Però in ogni momento posso mettere in pausa, dare ordini e vedere la pausa, vederli eseguiti quando la pausa viene, viene, viene annullata. Ecco, purtroppo i corpi scompaiono immediatamente lasciando indietro sti sacchetti, va bene? Vabbè, qui c'era però una pozione che prenderemo, qui c'erano invece delle monete che prenderemo, va bene? Quindi basta cliccarci, ovviamente, sopra. Vedete, tutti i vari addestratori sono stati fatti fuori, va bene? Quindi sì, dicevo che il combattimento è interessante anche perché adesso non lo si vede bene con questi nemici così facili da sconfiggere, no? Però, ecco, però, ok, beh, stiamo anche prendendo qualche danno, ma poca roba, va bene? Oh, ecco, non so se avete notato che sono comunque lenti questi combattimenti, no? Perché vengono simulati esattamente come in Baldur's Gate i round, va bene? E man mano che il nostro personaggio sale di livello ottiene più attacchi per round, quindi inizia ad attaccare più spesso. Va bene? Anche questo è interessante, no? È un modo interessante per descrivere, per trasformare in un sistema pseudo in tempo reale, no? Il sistema a turni del regolamento cartaceo da cui questo gioco deriva, va bene? Penso sia qui, allora qui adesso noi potremo esplorare tutte le altre stanze uccidendo un sacco di goblin. Andremo invece da questa parte, va bene? Che è la parte dove c'è detto di andare Eribeth per trovare queste Water Deviant Creatures, va bene? Oh, c'è un Mysterious Mage anche qua, che vediamo se riusciamo a fargli del male, sì, ok? Però se ne va, niente, si teletrasporta lontano lasciandoci sempre sti goblin. Ecco, avete visto che questi secondi di attesa possono sembrare strani, no? E il gioco ha subito delle critiche per questo anche. Invece io adoro i combattimenti fatti in questo modo, in cui è sempre chiaro cosa sta succedendo, va bene? E non c'è confusione. Al passaggio, mi permetto di fare questo volo pindarico, al passaggio fra il primo Dragon Age e il secondo, il problema principale a mio avviso era proprio questo, cioè il fatto che nei primi combattimenti erano chiari, va bene? Perché avanzavano, erano lenti. Nel secondo era tutto più velocizzato, no? Quindi non si capiva niente alla fine di quello che stava succedendo, di che azione stava compiendo ciascun personaggio in ogni momento. Guardate, questo è fondamentale, eh. Cioè, se rallentare l'azione mi fa capire meglio cosa sta succedendo, rallenta l'azione, va bene? Ma rallentala non nella maniera artificiosa, non lo so, mi viene in mente Pillars of Eternity, no? Che ha l'opzione di rallentare i combattimenti. Ma a quel punto si rallentano solo i combattimenti e tutto il resto va a un'altra velocità, suona da artificioso, no? Invece qua non è così. Va bene? Qui non stiamo rallentando il ritmo di gioco. Il ritmo di gioco è proprio così. È lento di suo, va bene? E questo è... Beneficia tantissimo il modo in cui i combattimenti vengono concretizzati. Va bene? Vediamo cosa ha lasciato sto morto. Ha lasciato dei proiettili che non ci interessano. Vediamo cosa c'è in questo chest. C'è una breastplate. La breastplate potrebbe essere meglio dell'armatura che abbiamo. Controlliamo. Allora, dà un bonus di 5, massimo bonus di 2. Questa invece dà un bonus di 4, massimo bonus di 4. Quindi sì, il nostro bonus massimo è 2 per il momento. Quindi ci piace. Vedete? Adesso siamo a 17. Oh! E abbiamo anche cambiato un po' aspetto, forse o no? No, mi sa che è uguale invece. Non abbiamo cambiato aspetto. Va bene. Andiamo avanti. Cosa c'è dentro questo dungeon? Vediamo un po'. All'area di essere un posto abbastanza grande, perché vedete la mappa è ancora quasi tutta scura. Quindi andiamo avanti per di qua. Oh! C'è Pavel! Vi ricordate Pavel? Oh, per fortuna sei arrivata. Pensavo che questi goblins mi potessero ammazzare, ci dice Pavel. Sono io Pavel, ti ricordi? Questo posto è pieno di nemici. Hanno ucciso Bim, suo fratello, vi ricordate? You have to let me join up with you. Ecco, questo è il modo in cui il tutorial ci insegna ad avere un seguace. E dice Pavel, tutti hanno bisogno di aiuto, prima o poi, ogni tanto da qualcuno. Magari da qualcuno che ha skills che tu non hai, abilità che tu non hai. O forse a volte ti serve semplicemente del muscle in più, del potere ulteriore. Andiamo avanti. Ecco perché la maggior parte delle città ha dei posti dove puoi reclutare degli henchmen. Puoi reclutare degli incantatori. Se gli parli, possono offrirti i loro servizi per una fee. Andiamo avanti. Io naturalmente non ti chiedo nessun pagamento, dice lui. Voglio solo vendicare la morte di Bim e uscire da qui vivo. Unisciti a me, possiamo dirgli. Perfetto. Ecco, e lui ci dice, ma appunto è un po' un tutorial, ci dice puoi darmi degli ordini generici se vuoi. I've got a mind of my own, cioè io agirò autonomamente ma tu sei quello in charge. Quindi se vuoi puoi darmi degli ordini precisi. Va bene? Ecco, devo dirvi che vedete adesso è Pavel è comparso qui nell'interfaccia sotto il nostro eroe. Quindi seguirà il nostro eroe. Però vedete, la situazione è molto diversa da quella dei giochi col motore Infinity. Che erano proprio pensati per un party. Questo gioco non è pensato per un party. È pensato per controllare un singolo personaggio, va bene? All'altro personaggio si possono dare ordini generici, va bene? Gli si può dire vieni qui, vai là, stai fermo, stami lontano, stami vicino. Si possono curare magari trascinandogli sopra una pozione come ci ha appena spiegato. Però sapete che vi dico, io il più delle volte quando ho un seguace in questo gioco veramente continuo a lamentarmi per quello che fa il seguace. Non sono mai contento di quello che fa il seguace. Perché per esempio rompe qualunque copertura, corre in avanti per attaccare i nemici, fa scattare le trappole. È veramente difficile tenerli sotto controllo, va bene? Quindi questo è un difetto gravissimo di questo gioco. Fate un personaggio potente e giocate senza arruolare nessuno. Anche perché non è che i personaggi secondari abbiano ste storie. Sì, ognuno ha una piccola missione personale, ma veramente qualcosa di trascurabile. Il comparto è stato migliorato nelle espansioni. Per esempio, nelle espansioni è possibile comunque intervenire nell'inventario dei personaggi, va bene? Però comunque non è mai possibile controllarli con l'interezza di opzioni, la pienezza di opzioni che si ha nei giochi infiniti, va bene? Ed è sicuramente un problema. Perché io... E questa è una domanda che mi sono sempre fatto, no? Riguardo a questo gioco. Cioè, questi regolamenti nascono con l'idea che si debba avere un party di avventurieri. Quindi è veramente strano prendere questo regolamento e farci un gioco per un singolo personaggio. Non è strano? Boh, se vuoi fare un gioco per un singolo personaggio, non usare i regolamenti di Dungeons & Dragons, dal mio punto di vista. Vabbè, ma forse è il mio punto di vista. Andrò avanti ancora per poco, eh, in questo tutorial. Poi mi fermerò perché stiamo andando avanti da tantissimo. Vi faccio vedere qualche altro combattimento, vediamo un po'. Per esempio contro questo Tuff Goblin, vediamo. Oh! Vediamo un po'. Ecco, ha schivato il nostro secondo colpo, vediamo. Il terzo colpo però l'abbiamo preso in pieno, va bene. E vedete, otteniamo naturalmente punti... Ah, ci sono anche degli scheletri nel frattempo che sono usciti dall'altra parte e che sta combattendo il buon Pevel. Combattiamo anche questi scheletri. Ecco, state vedendo di nuovo questa lentezza, no? A cui mi riferivo prima. Vi faccio vedere giusto un altro paio di combattimenti. Vediamo un po'. Qui ci sono dei Goblin Weak, quindi presumibilmente li possiamo... Ecco, gli attacchi di opportunità sono un'altra novità importante rispetto ai giochi infiniti, eh. Gli attacchi di opportunità si fanno, per esempio, contro i personaggi che si muovono, che lanciano incantesimi, che attaccano con le frecce in corpo a corpo, va bene. A volte è possibile... È possibile... Vediamo un po', voglio farvi vedere altri combattimenti nel frattempo, mentre parlo. È possibile disattivare alcune di queste funzionalità nelle opzioni, va bene? Vedete quanti attacchi di opportunità stiamo avendo. Selezionando un'opzione precisa è possibile annullare gli attacchi di opportunità al protagonista. Tra l'altro abbiamo perso parecchi punti ferita, eh. Vedete la nostra barra qui indica che forse ci dovremmo curare. Vediamo una di queste pozioni. Vediamo. Ok, siamo guariti, va bene. Nel frattempo Beam ha ammazzato uno scheletro per conto suo. Vediamo cosa c'è qua dentro. Vediamo un po', ma semplicemente dei chest e nient'altro di interessante. Vabbè, vediamo cosa hanno questi chest. Qui dei soldi, vediamo un po'. E qui degli altri soldi. Ma vabbè, sapete che vi dico? Secondo me abbiamo visto a sufficienza del tutorial. Adesso preferisco caricare l'altro salvataggio e farvi vedere una situazione di gioco un po' più avanzata e magari il lancio di qualche incantesimo. Quindi passiamo all'altro salvataggio. Bene, eccoci nell'altro salvataggio che voglio farvi vedere, va bene? Qui nei pressi c'è un combattimento di un certo livello, diciamo. Quindi voglio farvi vedere anzitutto quello, ok? Siamo nel cimitero del quartiere che si chiama Beggar's Nest, se non ricordo male, della città di Neverwinter. Siamo nel primo atto, va bene? E il nostro personaggio sta cercando di recuperare queste creature, le Water Davian Creatures, vi ricordate di cui abbiamo parlato anche nell'altro segmento, per la cura della Wailing Death. Quindi siamo ancora all'inizio dell'avventura. Prima vi ho fatto vedere una Barbaressa, qui invece abbiamo una Druidessa, va bene? Ho scelto, vedete, questo ritratto in cui si coccola questo bel gattino. Questa icona qui indica che abbiamo un Level Drained, vedete? A causa di un combattimento che abbiamo già svolto poco tempo fa, insomma, in questa avventura, è un mostro, credo una mummia, mi pare che siano le mummie ad avere questa caratteristica, ci ha sottratto un livello, e serve un incantesimo di Restoration, o una pozione, o uno scroll di Restoration, e purtroppo non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo vivere con questo Level Drained, ma, insomma, la prima occasione in cui andremo nel City Center, diciamo, nel principale quest hub del primo atto, che è appunto il City Core, mi pare si chiami, e avremo modo di risolvere questo problema. Però, insomma, per questa dimostrazione ci teniamo questo problema, va bene? Nel frattempo è notte, così vedete anche un po' il sistema di illuminazione, e voglio farvi vedere anche l'erba, va bene? Allora, il primo atto, che è molto lungo, il primo atto della campagna, si svolge tutto nella città di Neverwinter, e quindi le location selvagge sono praticamente pochissime, insomma, credo che questa sia l'unica occasione in cui si può vedere nel primo atto l'erba, va bene? Perché quando il gioco uscì l'erba, vedete che si muove quando passa il personaggio? Vabbè, adesso queste cose ci sembrano molto ingenue, se non proprio brutte. Però ecco, quando uscì il gioco, era questo uno degli elementi più pesanti da renderizzare, ricordo che in molti, no? Fummo costretti a disattivare la visualizzazione dell'erba per avere delle performance accettabili. Va bene? Torniamo a livello di zoom massimo. Vi voglio far conoscere un po' meglio Amondriel Relie, che è la nostra druidessa. Intanto avete notato che ha questo Animal Companion, questo Nerial, va bene? Con il quale parlandoci, vedete, possiamo dargli da mangiare, questo è molto utile per guarire le sue ferite, possiamo coccolarlo, questo non ha nessuna importanza, se non così dare un tocco di ambientazione, e possiamo anche, vediamo, dirgli di stare un po' più lontano, vabbè, gli ordini molto generici che possiamo dare anche ai comprimari. Ah, c'è un'altra cosa che voglio farvi vedere a proposito della grafica e dell'ambientazione. Vedete, a rendere artefatto l'aspetto di questo gioco, a rendere evidente il fatto che si tratta di un gioco fatto a blocchettoni, fatto con un editor basato su questi blocchettoni, su questi moduli, combinati fra di loro, è il modo in cui, per esempio, viene rappresentato il limitare, vedete, delle zone selvagge. Cioè le foreste sono in realtà degli spiazzi aperti che hanno, vedete, dei muri che rappresentano degli alberi, su cui sono disegnati degli alberi. Sì, vabbè, come se questo fosse una sorta di bosco troppo fitto, ma è troppo evidente che è un muro, no? È troppo evidente che non è un bosco fitto, ma un muro. Non funziona, secondo me, complessivamente, insomma, ne parliamo anche nella nostra recensione nel sito, ma ne parlo anche poi nel video con il nostro parere. Ecco, secondo me, complessivamente, la grafica di questo canale non funziona. Scusate, di questo canale, di questo gioco, non funziona, va bene? Ne ha proprio dei limiti intrinseci molto, molto difficili da superare. Allora, qui vedete la nostra druidessa ha a disposizione tanti belli incantesimi, va bene, può evocare, per esempio, delle creature, come tipico dei druidi. Ha tanti incantesimi di buff, qui può aumentare la sua forza, vedete, qui può mettersi la bark skin, con il radial menu possiamo vedere la descrizione di questi incantesimi. Vi faccio anche vedere il menu degli incantesimi, già che ci siamo. L'interfaccia dedicata, vedete, questi sono gli incantesimi da druido, ci sono anche incantesimi di livello 0, questa è una novità rispetto alle edizioni precedenti dei giochi basati su Dungeons & Dragons, non esisteva in Baldur's Gate l'incantesimo di livello 0, vengono chiamati cantrips, spesso dal gioco, che vuol dire un po' trucchetti tipo più che incantesimi, e poi, vedete, questi sono tutti quelli di livello 1 che abbiamo a disposizione, tutti quelli di livello 2, questi sono quelli appunto del druido e tutti quelli di livello 3. Da quest'altra parte vedete quelli che abbiamo memorizzato, che abbiamo preparato, va bene, perché il druido, come il mago, da questo punto di vista, deve preparare i suoi incantesimi in precedenza e si ricaricano quando dorme, no? Adesso ce li abbiamo tutti carichi perché abbiamo dormito prima di caricare, cioè prima di far avviare meglio questo video, abbiamo dormito così da ricaricarli tutti. La differenza col mago è che il mago deve anche impararli, invece, appena il druido raggiunge il livello necessario, il druido e anche il chierico ha subito a disposizione tutti i suoi incantesimi di quel livello. Va bene, quindi questi sono quelli appunto che conosciamo, ecco, andiamo verso questo combattimento un po' un po' importante e ostico, vediamo se riusciamo ad averne ragione, ok? Sarà l'unica cosa che vi mostrerò in quest'altro segmento, ci siamo già, abbiamo già parlato parecchio, ci siamo già trascinati a lungo nel segmento precedente, quindi non voglio spendere troppo tempo in quest'altro segmento. Allora, siamo dentro un dungeon, va bene? Ecco, l'altro grande problema, sempre collegato a quello che dicevamo prima, della, 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 non solo della grafica, direi proprio del modo in cui sono costruite le ambientazioni in questo gioco, è il fatto che vengono utilizzati appunto dei, dei set di Tile, quindi l'impressione è che alla fine si sia sempre dentro lo stesso dungeon, nella stessa città, no? Guardate, questo è un problema che, allora, anche in un gioco, non lo so, per dire, come Oblivion, ok? I dungeon Eilaid, i dungeon Elphici hanno tutti gli stessi asset utilizzati, no? Quindi, combinati diversamente, quindi anche là potremmo dire, beh, insomma, uno potrebbe dire anche in Oblivion allora hai la sensazione di essere sempre dentro allo stesso sotterraneo. Ma c'è qualcosa però di diverso nel modo in cui in un gioco in prima persona con un punto di vista, non con visuale isometrica, no? Come questo, ecco, il modo in cui la grafica modulare viene costruita, le ambientazioni modulari vengono costruite in un gioco in prima persona rende in qualche modo quelle ambientazioni più accettabili per qualche motivo, no? Il fatto che con lo zoom si possa spaziare, no? si possa andare con lo sguardo così lontano anche dalle ambientazioni, è come se ci facessi avere una visuale a volo d'uccello che rende più evidente, no? La natura modulare, artefatta, diciamo, e ripetitiva delle ambientazioni. No, questa è la mia opinione. Cioè, in un gioco come Oblivion sono disposto ad accettare il fatto che gli asset siano riciclati. Faccio molta più fatica in un gioco con visuale isometrica. Secondo me, proprio per una questione di come il nostro occhio e quindi di conseguenza la nostra mente si sintonizza nel modo in cui un'ambientazione è descritta. Va bene? Ok, mi sposterò, allora dobbiamo fare il giro attorno a questa specie di anello, va bene? Per raggiungere questa zona, vedete? La zona opposta, diciamo, di questo dungeon, dove c'è appunto questo combattimento, va bene? Stiamo recuperando, ripeto, uno degli ingredienti per creare la pozione per curare, o almeno così dovrebbe essere, non vi spoilerò, l'esito, per curare la willing. Guardate come sono orrendi quegli artefatti che sono là, guardate. Cioè, perché qui non... Io speravo che con la Enhanced Edition, cioè in qualche modo si vede una versione in negativo dell'ambientazione che dobbiamo ancora scoprire. Vedete, qui c'è una stanza che dobbiamo ancora scoprire e guardate che roba e quando giro, vedete, fa così. non è... è proprio brutto, è proprio veramente... Cioè, il sistema grafico di questo gioco è riuscito veramente male. Per carità, capisco, capisco tutto, cioè capisco il fatto che è stato creato con un obiettivo in mente, quello di dar vita a un editor, di dar vita a un sistema, a un ambiente che permettesse di... come dire, che permettesse l'interazione online, no? Attraverso il sistema, diciamo, di creazione, di avventure con un master virtual, capisco tutto, però, insomma, penso che davvero si potesse fare, si potesse fare qualcosa di meglio. E poi, in generale, bisognava anche renderle più varie, queste ambientazioni. Cioè, non è possibile che ci sia un tileset per fare la città e basta. Cioè, è chiaro che tutte le città sembrano uguali a questo punto, no? Prima facevo l'esempio di Oblivion, cioè, le città di Oblivion sono tutte molto diverse, non riutilizzano gli stessi... pensate se tutte le città fossero costruite con gli stessi asset, sarebbe un bel problema, no? Se fossero tutte simili dal punto di vista, almeno quelle sono tutte diverse, hanno un'identità forte. Cioè, io capisco, allora, si può passare sotto forse al fatto che i dungeon si assomiglino tutti, ma non le città. Non è possibile che Neverwinter sia uguale all'Ascan, va bene? No, la città deve avere un'identità precisa. Non lo so, penso che il compromesso a cui si è arrivati in questo gioco per dar vita a questo editor così flessibile, così leggero, così duttile, così maneggevole, non siano comunque soddisfacenti. Va bene? Basta, basta, e andiamo verso questo combattimento, basterà aprire quella porta, ma prima ci buffiamo, come si può dire, ci rinforziamo, siamo druidi, va bene? Abbiamo in mano una bella scimitarra, vedete, un bello scudo, anzi, andiamo a vedere un po' meglio cosa abbiamo, vedete, il nostro inventario è pieno di roba, siamo pieni di pozioni, siamo anche pieni di oggetti non identificati, purtroppo non abbiamo, vedete, una grande lore, quindi non siamo in grado di sapere bene che oggetti sono, però abbiamo, vedete, una bella studded leather armor, niente di speciale, abbiamo uno shield of dawn, beh, questo sembra bello, no? È uno scudo piccolo più uno, vedete, che ci dà anche un'armatura in più contro gli undead, beh, questo è molto utile perché qui dentro sono tutti undead in questi dungeon, e poi abbiamo una banalissima scimitarra, vedete, come arma principale. Allora, cosa potremmo fare? Abbiamo già il nostro animal companion, ah, tra l'altro vi faccio notare che abbiamo già raggiunto il livello, a che livello siamo? Andiamo a vedere. Siamo a livello 5, però in realtà abbiamo un level drained, quindi forse in realtà siamo a livello 6, boh, non lo so quanti livelli ci siano stati tolti, spero uno solo, quindi presumibilmente dovremmo essere a livello 6. Abbiamo alzato, vedete, parecchio la wisdom, che è la statistica di riferimento per gli elfi, abbiamo bella alta anche la dexterity e abbastanza alto anche il carisma, va bene, questa è stata una scelta puramente da role player, perché non è che serva molto il carisma con i druidi. Cosa stavo dicendo? Che abbiamo già raggiunto il livello che ci permetterebbe lo shapeshifting, cioè potremmo trasformarci in orso, va bene? Ve lo faccio vedere, poi torniamo... Ecco, guardate, siamo diventati un orso, è cambiato anche il ritratto, vedete? E guardate, sono cambiate anche le nostre caratteristiche, vedete? Guardate, abbiamo 27 di forza da orso. Il problema è che non possiamo parlare, no, non possiamo utilizzare nessuno degli incantesimi, vedete che sono tutti anneriti, va bene? Quindi, vabbè, volevo farvelo vedere, ecco, guardate come non funziona, vedete, la renderizzazione grafica degli animali, no? Anche gli animali si vede che sono divisi, vedete, in pezzi, no? È come... danno l'idea di essere più degli androidi travestiti da animali, no? Delle macchine travestite da animali che non dei veri animali. Vabbè, niente, torniamo alle banali forme umane, perché voglio essere abile di... capace di lanciare incantesimi. Allora, ci lanciamo. Vediamo un po', beh, intanto evochiamo la nostra creatura, evochiamo una bella creatura che è un bel lupo, vedete, oh, questo ci darà una bella, una bella mano. Poi ci mettiamo, direi, un protection from elements, no, non sul lupo, no, 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 allora, no, lo stavo lanciando sul lupo, no, lo lanciamo su di noi. Ecco qua, perfetto. Poi vediamo un po', un bel balls strength che ci aumenta la forza, questo può aiutare se decidiamo di attaccare con la nostra scimitarra, e infine anche un bel bark skin che dovrebbe aumentare la nostra classe armatura. Benissimo, vedete le icone qui, ci dicono tutti i nostri status, no, quindi sono molto utili. L'interfaccia è anche fatta bene, dal punto di vista della utilità del tutto. Va bene, entriamo in questa stanza e proviamo ad affrontare questo, anzi, sapete che facciamo prima? Salviamo. Oh, facciamo un bel salvataggio ed entriamo. Allora, vediamo un po' come va, c'è un bel weak zombie, c'è un wraith, vedete gli animali si buttano all'attacco, ma noi vogliamo cercare il cattivo principale che si chiama Gulnan, questi sono tutti i zombie, eccola là. Noi ci scagliamo contro questa Gulnan che presumibilmente ci farà la pelle, vediamo, zoomiamo un pochettino, per il momento stiamo attaccando normalmente non le facciamo quasi niente, perché insomma sarebbe bello se gli animali nostri, vabbè, proviamo a lanciarle addosso questo incantesimo, un incantesimo, ecco, vedete che abbiamo fatto scattare attacchi di opportunità da parte di tutti questi zombie? È ancora un injured, non le stiamo facendo niente, beh, adesso l'abbiamo un po' ferita, ma in realtà no, niente, non riusciamo, cosa ha fatto? Ah, ci ha tolto tutti gli incantesimi, finirà malissimo questa cosa, finirà molto male, continuo a lanciare incantesimi, non riusciamo a fare niente, niente, allora proviamo con un diversivo, andiamo, ahia, mi ha fatto malissimo, niente, cerchiamo di guarirci, nel frattempo la nostra bella panterona, ah beh, il nostro Animal Companion è stato addirittura sconfitto, allora, oh ecco, pantera, brava, vediamo se riusciamo con l'aiuto della pantera, oh, vedi che la pantera, benissimo, la pantera fa un po' male, a Gulnan, abbiamo fatto un colpo anche noi, ma sapete che forse è meglio diventare orso, ecco, niente, sono morto, siamo allegramente, boh, ci riproviamo, che ne dite? Ci riproviamo, andiamo sul quick save, e ci riproviamo, va bene? Allora, il segreto, il druido, è un personaggio abbastanza debole, va bene? E deve cercare di far attaccare in sua vece, i suoi animali, cioè, quella è la funzione del druido, no? Il druido è un po' il puppet master della situazione, dovrebbe essere, non quello che attacca direttamente, ma quello che, invece, utilizza i suoi animali, quindi il problema qui è, cercare di far sì che gli animali, si concentrino, non su questi zombie inutili, vediamo un po', proviamo, prima a far fuori tutti gli zombie inutili, usiamo quest'altra tecnica, facciamo fuori i zombie inutili, va bene? Oh, uno è già andato, l'altro è già andato, questo wraith, vediamo se riusciamo a farlo fuori, vediamo un po', oh, beh, però bene, il lupo è già andato contro Gulnan, questo mi piace, anzi, adesso ci vado anch'io, allora, a questo punto, ah, però mi sa che ce lo sta già ammazzando, quasi, proviamo ad andare contro Gulnan, anche noi, vediamo, no ragazzi, se prima non sconfigo questa Gulnan, io, vediamo qual è il rating che dà overpowering, ah, ok, no, forse sono venuto un po' troppo presto, eh, a cercare di farla fuori, vediamo se ci riusciamo, mi sa di no, eh, proviamo, giochiamo la carta, giochiamo la carta, vedete quanti attacchi di opportunità, perché abbiamo cercato di scappare, giochiamo la carta orso, vediamo cosa succede, vai, tutti contro Gulnan, ahia, ci ha fatto malissimo, eeeh, ci ha fatto ancora più male, niente, 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 forse proviamo direttamente in forma di orso, riproviamoci, riproviamoci, allora, vediamo un po', eccoci qua, stavolta riproviamo in forma di orso, ragazzi, non voglio sentire ragioni, vediamo se ci riusciamo, oh, dov'è, ci muoviamo anche in modo un po' ridicolo, eh, in forma di orso, guarda che roba, sembra che, non lo so, saltiamo sul posto, invece di, oh, sento che in forma di orso, riusciremo a combinare qualcosa, guarda, critical hit, oh, abbiamo interrotto anche il suo incantesimo, ottimo, benissimo, vediamo se, non abbiamo tanti attacchi, purtroppo, vedete, attacchiamo con una certa lentezza, speriamo che magari avesse anche degli attacchi in più l'orso, però vedete, è injured, se non altro, e siamo injured anche noi, temo, le abbiamo rovinato un altro incantesimo, benissimo, vedete quanti attacchi stiamo facendo, alcuni, a volte quando gli attacchi sono particolarmente veloci, adesso si è guarita, quando gli attacchi sono particolarmente veloci, le animazioni non riescono neanche a renderizzarli, quindi vediamo solo il numerino, ma non vediamo, è near death, ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatta, questa era la strategia esatta, forse, adesso si è guarita di nuovo, però, vediamo, vediamo un po', e dai, e muori, niente, perfetto, benissimo, no, no, perfetto, Gulnan, è morta, va bene, adesso vediamo se riusciamo anche a far fuori sto, Wraith, che deve essere un, un osso duro, vediamo com'è, è challenging, ok, e ci ha fatto qualcosa, anche ci ha, forse ci ha, vediamo un po', ebbene, l'abbiamo fatto fuori ragazzi, l'abbiamo fatto fuori, siamo ancora tutti vivi, benissimo, ci ha, vedete, vediamo un po', constitution decreased, va bene, ci ha, ci ha, torniamo a esseri umani, va bene, ci ha, maledetto, non so come dire, ci ha, ci ha fatto calare una delle caratteristiche, e vedete adesso nel, 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 nei remains di Gulnan, c'è uno degli ingredienti, eccolo qua, è lo Yuan-Ti Heart, è uno degli, vedete, Gulnan was one of the water they, ah, era proprio lei, era proprio questa Gulnan, il, il, era uno Yuan-Ti, ma sembrava, non sembrava uno Yuan-Ti, eh, aveva le gambe, gli Yuan-Ti non dovrebbero avere la cova di serpente, almeno così era in Icewind Dale, vabbè, forse non hanno mai avuto, non l'hanno mai, come dire, non hanno mai, hanno deciso di, eh, raffigurarla come un umano, per non creare, una, una creatura apposita, o forse, vabbè, o forse gli Yuan-Ti possono trasformarsi, no, nella lore del gioco, in qualunque altra creatura, vabbè, comunque abbiamo fatto fuori, eh, Gulnan, e adesso, vedete, prendendo questo, questo, questo oggetto, si sono aggiornate tante belle quest, abbiamo trovato anche una special Holy Water, e anche, eh, bella la Scimitar P1, perché noi stiamo proprio usando una Scimitar, a questo punto ce la mettiamo in mano, oh, beh, bene, molto bene, avremmo anche preso un po' di punti esperienza, quanto manca, insomma, dobbiamo prenderne un altro migliaio, più o meno, per aumentare di livello, ma prima dobbiamo assolutamente risolvere questa roba del level drained, eh, vabbè, comunque, se noi abbiamo fatto vedere un altro po', no, del gioco, un combattimento un po' più difficile, l'abbiamo ritentato più volte, alla fine abbiamo avuto ragione di questa Gulnan, senza troppe difficoltà, direi che a questo punto avete visto a sufficienza, del gioco in azione, e parleremo comunque, no, di altri aspetti del gioco nel video con il nostro parere, ma direi di chiudere qui questa, questo esempio di gioco. E questo, signori, era il nostro esempio di gioco di Neverwinter Nights di Bioware, ma sappiate che non è tutto quello che abbiamo riguardo a questo gioco, perché abbiamo un altro video in cui vi diamo il nostro parere su questo gioco, in cui, come dire, analizziamo anche le sue varie sfaccettature, molte delle quali non sono indagate all'interno di questo esempio di gioco, per ovvi motivi, diciamo, di tempo soprattutto. E abbiamo anche un video in cui vi mostriamo la nostra collezione fisica riguardante questo gioco così importante per la storia del nostro hobby. Quindi vi lascio i link a questi altri video in descrizione. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero che i nostri video vi piacciano, e se vi piacciono iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche. Mosè della Maschera Riposta vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. e vi ringrazio per aver guardato il nostro video.